Quindi la prima cosa da fare è dire salve persone che stanno recuperando questa live perché ancora non c'è nessuno di connesso. Abbiamo qui un ospite speciale che non saprei come descrivervi, quindi tu come ti descriveresti Giacomo Cotrera? Allora, ciao a tutti. Io parto di solito col ciao che è la cosa più semplice da dire. Io sono Giacomo Cotrera, sono dislessico, siamo dislessici qua, siamo in ottima compagnia. E fin qui direi che è tranquillo perché c'è tanto di cartello fuori. E sono qua per raccontare insieme ad un amico quelli che sono i falsi miti che ci sono, che ruotano intorno a questa parola. La parola dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, insomma tutto quello che rientra dentro i DSA. Non saprei come altro descrivermi perché Enrico mi ha definito come una persona che lavora, che è dietro a tutti i movimenti che stanno succedendo, tutte le battaglie, eccetera, eccetera. Quindi, che è vero purtroppo, è vero, sono dietro ma sono dai un po' anche, ci metto anche un po' la faccia dai, un po' ce l'ho sempre messa. Io l'ho incontrato per la prima volta, l'abbiamo scoperto un attimo fa, perché la mia scuola superiore aveva creato questo carinissimo istante in cui avevamo dovuto discutere tutti assieme di questa fantastica questione che è la DSA in un'altra scuola, tra l'altro, e io non so come si ricordasse di me, non ne ho idea. Io ero lì per un motivo ben preciso. Siccome sono, posso raccontarlo tranquillamente, io sono, ho scoperto la mia dislessia a 14 anni e stiamo parlando di 20 anni fa, quindi è passato un po' di tempo e quando l'ho scoperto, la prima cosa che ho pensato è ok, perfetto, adesso io devo trovare un modo di cambiare le cose. Ho provato a parlare con gli insegnanti, ci ho provato a far capire che cos'era la dislessia, ho visto che c'erano tanti muri a parlare con gli insegnanti, ho detto allora cambiamo strategia, adesso parlo con gli alunni che tra qualche anno diventeranno insegnanti barra youtuber, barra qualcosa del genere, insomma, e così almeno questa generazione non ce la facciamo, ma la prossima ci siamo. Quindi per questo che mi ricordo di te, perché ci avevo già investito, insomma, su questa diretta. Sono 20 anni che la sto programmando. Aspetta, non sono passati 20 anni dalla live. No, cosa sono così vecchi? Pensavo da prima. Ok, no, dai. No, ma seriamente, quando io ti ho definito la persona che sta dietro a queste cose, è perché io non so con precisione che cosa tu faccia nello specifico in tutto questo, quindi hai voglia di parlarci anche di questo, perché stabilire chi sei aiuta a prendere sul serio tutto quello che dirai. Parlo per dire, ok. Allora, intanto io sono stato il vicepresidente nazionale dell'AID, che è l'associazione italiana di Slessia, adesso sono il responsabile del progetto adulti, che per dirlo in termini molto agili, è un'idea che mi è venuta, sempre nel vent'anni fa, insomma, sempre in quel momento lì. Io avevo il desiderio di far incontrare tra di loro tutti, tutte le persone dislessiche, disgratiche, discalculi d'Italia. Volevo fare in modo che ci si trovasse tutti quanti insieme e che si decidesse, che fossimo noi a decidere in che direzione volevamo andare. Quindi le battaglie delle persone dislessiche, secondo me, sono i dislessici che devono decidere quali sono, come combatterle e, insomma, capire in che direzione si vuole andare. Quindi quello che sto facendo ultimamente è proprio organizzare questi meeting nazionali dove le persone dislessiche si parlano tra loro e dicono quali sono i problemi, quali sono le criticità, come vorremmo cambiare il mondo scolastico e non solo, insomma, anche il mondo universitario, il mondo lavorativo, quali sono le battaglie che vogliamo portare avanti. In tutto questo progetto, il motivo per cui ci siamo rincontrati è che in questo periodo stiamo facendo una petizione per chiedere che ci siano delle garanzie a livello universitario, garanzia di poter usare gli strumenti compensativi e anche la garanzia di poter avere una diagnosi, perché adesso, come adesso, per avere una diagnosi di dislessia, di DSA, bisogna mettersi in coda e ci sono delle code lunghissime perché ci sono pochissimi centri che fanno la diagnosi nell'adulto. E questa è la situazione attuale. Quindi, siccome abbiamo pensato che chiedere gentilmente con centomila persone che ti sostengono è meglio che chiedere solo gentilmente, abbiamo detto, ok, partiamo e mobilitiamo tutti. Mobilitiamo tutti quelli che possono aiutarci e darci una mano. Ho una domanda abbastanza particolare che mi è sorta orora sentendoti parlare, ovvero, mi capita a volte di sentire qualcuno riferirsi a disgrafia, disortografia, dislessia, eccetera, chiamandole tutte quante, dislessia, e non so se sia una questione di, vabbè, approssimazione per potersi riferire a questo gruppo di persone, scegliamo un termine. Un po' come quando si parla di diritti LGBT e si dice i gay, quando in realtà si intende un sacco di altre categorie. Oppure se si potrebbe effettivamente utilizzare il termine dislessia per indicare tutte queste variabili? Allora, è esattamente quello che hai detto tu, nel senso che viene usata la parola dislessia come termine cappello, per intendere anche disgrafia, disortografia, discalculia. Quindi viene usata questa cosa. Uso le slide un attimo, che così vi faccio vedere un po' come, questo è per chiarire come sono messo io, per esempio. Io sono dislessico, mi definisco come dislessico, ma io in realtà sono principalmente dislessico, quindi faccio una fatica bestiale quando devo leggere. Poi sono un po' nella discalculia, un pochettino, non tantissimo, quindi il 7 per 8, per esempio, era una cosa da panico. Sono un po' nella disgrafia, quindi la A e la O, le scrivo praticamente uguali, e un po' nella disortografia, quindi doppie, accenti A con l'H, dove ci va la con l'H, dove non ci va la con l'H, mistero della fede. Ecco, io sono un miscuglio di queste cose, e ogni persona con un disturbo specifico dell'apprendimento è in un punto diverso di questo diagramma, diciamo. Quindi è un po' più di qui, un po' più di là. Ci sono varie sfumature. Si usa il termine dislessia per intendere tutto quanto. Quindi quando noi parliamo di ragazzi dislessici, in realtà parliamo di ragazzi dislessici, ma anche disgrafici, disortografici, discalculici, tutti quanti, insomma. E diciamo che sarebbe più corretto parlare, quando si parla di tutto insieme, parlare di DSA. Solo che poi si crea questo problema, che uno dice io sono un DSA, solo che DSA significa che sono un disturbo specifico dell'apprendimento. Non suona benissimo. Allora abbiamo reinventato questo termine, perché DSA può significare anche differente stile di apprendimento. Quindi io sono differente nello stile di apprendimento. Quindi ci sta in quel senso lì. Cioè il mio modo di imparare è differente rispetto a quello degli altri. E lì ci sta benissimo. Una cosa che già che ci sono volevo dire, quando io ho scoperto di essere dislessico, la cosa più importante che mi ha detto mia madre in quel momento lì è stata guarda stai tranquillo, che hanno detto che i dislessici sono tantissimi. Quindi sono il 4% della popolazione, parlando solo della dislessia. E io quando mi ha detto questa cosa, ho detto cavolo il 4% sembra poco, ma in realtà vuol dire una persona ogni 25. Ho detto cavolo, ma se uno ogni 25 è dislessico, com'è che io non ho mai visto un altro dislessico in vita mia? Perché la mia classe era da 25. C'ero già io, quindi eravamo già al completo. In realtà la cosa bella che ho scoperto è che non solo non esistono i dislessici, ma esistono anche tutte le altre sfumature che ci girano intorno. Se me lo consenti adesso volevo parlarne di questo discorso della sfumatura. Perché? Allora, vado sulle cose pesanti. Che cos'è la dislessia? Come funziona? Giusto per capire di che cavolo stiamo parlando, è così. La dislessia si basa su un concetto semplicissimo, che è la distribuzione normale. Che significa? Significa che se tu hai 100 uomini in una stanza, ci sono... L'altezza media di questi 100 uomini è 1,75. Ma non saranno mai alti tutti 1,75. C'è quello che è alto 2 metri, e c'è quello che è alto 1,50. Ecco, per quanto riguarda la lettura, funziona allo stesso identico modo. Ci sono quelli dislessici, che sono quelli rossi, che sono quelli come me, io sono l'ultimo nell'angolino in fondo, faccio una fatica bestiale a leggere. Poi ci sono quelli che hanno difficoltà di lettura, che sono gli arancioni. E poi ci sono quelli verdi, la maggioranza, che sono i normolettori. Ecco, diciamo che quando parli normalmente non è che dici sono un normolettore, dici posto così, basta, sei tranquillo. E poi ci sono anche i superlettori, ci sono anche quelli che leggono velocissimo. Io, per esempio, ho mia moglie, che legge velocissimo, che prima di andare a dormire vuole mettersi a leggere il libro, che quando io sto dormendo lei legge, che quando noi dobbiamo vedere il film lei mette i sottotitoli. Cioè, io l'amo lo stesso, abbiamo una figlia che ha preso tutto dalla mamma, infatti anche lei la sera vuole leggere i libri, insomma, le amo lo stesso, ma abbiamo queste differenze qua. Adesso speriamo che il prossimo che arriva assomiglia al papà, insomma. Siamo messi così. Comunque, qual è la differenza sostanziale? È che la velocità di lettura media è quella freccetta lì che ho messo al centro. La velocità di lettura di una persona dislessica è invece quella freccetta nell'angolino rosso. Quindi io ho una velocità di lettura che è la metà rispetto a quella di un lettore medio, che può sembrare una stupidaggine, può sembrare una cosa piccolissima. In realtà tu quando vai a scuola, questa velocità di lettura pesa tantissimo, perché a scuola tutti i test che fai si basano sulla lettura. Ed è una menzogna enorme dire che i test sono imparziali, i test non sono imparziali, i test avvantaggiano tantissimo chi legge veloce e segano le gambe purtroppo a chi ha una velocità di lettura più bassa. Quindi c'è questa cosa. E quindi gli strumenti che noi utilizziamo in realtà servono per andare a compensare questa differenza naturale, insomma, che esiste. Ok. Faccio vedere anche la slide dopo, visto che te l'ho anticipata. Una cosa che ti interesserà di più è questa qua. Noi dislessici in Italia siamo quella percentuale del 4%. Se tu vai in Inghilterra o in tutti i paesi anglosassoni dove hanno questa brutta mania di parlare l'inglese, i dislessici sono tipo il 14-15%, sono molti di più. Perché? Perché la velocità di lettura dipende dalla lingua. Se tu parli l'inglese, che è una lingua non trasparente, quindi tu devi già sapere come si dice house per poter dire house, devi già sapere come si legge per poterlo leggere, insomma. Quindi devi già sapere che ci va l'h, che ci va l'i in fondo, tutto quanto. In italiano, se ti dico qualunque parola, anche supercalifragilistica e spiralidoso, da come la pronuncio, tu sai già come si scrive. Perché c'è la corrispondenza tra una cosa e l'altra, tra il grafema e il fonema, insomma. E quindi, in pratica, se noi fossimo nati in Inghilterra, saremmo comunque gli ultimi nell'angolino in fondo, ma saremmo tipo super dislessici, insomma. Questa è la questione. Questo però storicamente ha cambiato un sacco di cose perché in Inghilterra, in America, la dislessia la conoscono da molto tempo, la conoscono da tantissimi anni prima che venisse conosciuta in Italia. E quindi, per tantissimi aspetti, non ultimo, il cinema, gli inglesi sono molto, danno molto più per scontato che tutti sappiano che cos'è la dislessia. Prima di lasciarti parlare di cinema, c'è una persona che fa una domanda proprio sul cinema. C'è Ciccaleri che ci chiede ma è il trauma del film sulla dislessia che mostrano nelle scuole? C'è un film sulla dislessia in particolare? C'è un film sulla dislessia che credo sia uno dei cinque di cui volevo parlarvi. Non ricordo il nome. Ok. Era un ragazzo arabo. no, è un ragazzo indiano che si chiama Ishan e te ne parlo subito, che dici? Andiamo a recuperarlo? Va bene, recuperiamo così rispondiamo alla domanda. Esatto, allora guarda che te lo recupero subito. Scusate. Allora, parliamo dei film. Ok. Ok. Allora, vedo già che ti senti più rilassato ora che siamo ritornati nel tuo territorio. Ma in realtà ero incuriositissimo da prima perché è un discorso che ti ho già sentito fare e effettivamente ci sono reminiscenze che partono. Quindi sappia che sei. Ero già interessatissimo. Prego. Ecco, noi abbiamo iniziato la diretta, cioè nel prediretta, nei camerini praticamente, e lui ha detto ma io non mi ricordo che cos'è che ti avevo detto quell'anno che tu ti... Non mi ricordo neanche cosa. Adesso, durante la diretta, capiremo che cos'è che mi aveva detto quei parecchi anni fa, insomma. Sì, questa diretta in realtà è un giallo dove io sto stando di indagare e scoprire la verità. Di scoprire così, ecco, scopriremo che in realtà lui è nato non dislessico, gliel'ho attaccata io in qualche modo durante quella conferenza. Così. Allora, volevo raccontarvi, allora, partiamo da questo film qua che è Stelle sulla Terra. Allora, Stelle sulla Terra è un film indiano il cui nome originale è scritto di sopra ma non provo neanche a pronunciarlo. Viene fatto vedere nelle scuole perché credo sia l'unico film che proprio è centrato sulla dislessia. Cioè, tutta la storia ruota intorno alla dislessia. C'è questo ragazzo che va a scuola, che a scuola ha un sacco di macelli, un sacco di problematiche con gli insegnanti. Ci sono parecchie scene proprio che fanno capire di come lui abbia difficoltà nel calcolo, abbia difficoltà nella lettura, che a un certo punto ha un rifiuto, quindi ogni tre per due chiede di andare in bagno o a un certo punto escappa pure dalla scuola. Quindi, è molto duro sotto quel punto di vista. Io ho visto la versione originale, tra l'altro l'ho vista in indiano, insomma, ho visto proprio tutto il film. C'è da dire che pur non avendo capito nulla di quello che dicevano, si capiva la storia, perché purtroppo la storia è quella che abbiamo un po' vissuto tutti, cioè dei problemi scolastici, tutta una valanga di problemi scolastici una dietro l'altra. Di bello in questo film c'è il fatto che, qua devo allertare, metti lo spoiler alert, insomma, se voi volete vedervelo sono due ore e passa di film. c'è un momento in cui arriva un professore che è dislessico, che ha vissuto la stessa storia, lo stesso percorso, uguale identico e quindi è l'unico professore che capisce quello che sta provando questo ragazzo. E quindi si mette lui a parlare con la famiglia del ragazzo, si mette lui a spiegargli che cos'è la dislessia e finalmente gli altri insegnanti che prima lo bastonano giù pesantemente come se non ci fosse un domani, insomma, cambiano completamente e capiscono le esigenze insomma di questo ragazzo che poi vince la gara di pittura dimostrando appunto che i dislessici hanno delle potenzialità e che quindi non bisogna soffermarsi soltanto sul fatto che lui ha difficoltà nella lettura, a scrittura, a calcolo, insomma. Quindi viene fatto tutto questo percorso qua. È un film indiano quindi una cosa che è stata criticata tantissimo di questo film è che dal momento in cui parlano di cose molto strong, molto intime e tutto il resto poi di colpo si mettono a cantare e ballare. Però quello è perché è un film indiano quindi se uno conosce un minimo la cultura di Bollywood, di tutto quello che ci sta dietro è normale che ci siano questi momenti musical insomma. È comunque un film molto, credo sia l'unico film dove la dislessia è proprio centrale, cioè è un film sulla dislessia, non è un documentario ma è proprio un film che parla solo di quello. se vuoi ho altri quattro film di cui posso raccontare non so se li hai se li hai visti io te li te li spiattello lì. Io ti dico prego prima devo semplicemente ringraziare Icaru Kuroi che si è iscritta al canale mi ha fatto un complimentone pazzesco fantastico grazie mille e Edver che è qui che ti dice che ci fosse un episodio dei Robinson sulla dislessia io ho sempre guardato i Robinson non ho mai visto cosa? Bisogna rivederlo tutto quanto ma anche c'è un episodio anche delle Service Angels che i più datati mi hanno citato quello dove si parla della dislessia c'è un problema di fondo con tutte le commedie americane e così ed è l'adattamento non so adesso se hanno risistemato questa cosa con l'adattamento ma fino a pochi anni fa il termine dislessia dislessia veniva tradotto come lento a leggere quindi noi abbiamo visto un sacco di film dove si parlava di dislessia e non ci abbiamo capito una mazza perché veniva detto per esempio c'è un film di Robbie Williams in cui lui va nell'aldilà e incontra un suo amico dislessico che lì viene chiamato come ti ricordi di me sono quello che era lento a leggere e fa il bibliotecario nell'aldilà per una legge del fatto che al di là ognuno ottiene quello che non ha ottenuto in vita lui è un bibliotecario nell'aldilà con tutti questi libri eccetera eccetera lento a leggere non si è capito un tubo di quello che era il senso a quanto pare il nuovo doppiaggio hanno corretto in dislessia per fortuna perfetto esatto infatti ultimamente ho parlato anche con alcuni doppiatori che sono dislessici e probabilmente stanno facendo pressione anche loro stiamo recuperando tutta una storia insomma che si era un po' perduta volevo parlarvi di esatto chi è che lo scrive va bene allora è un doppiatore davide perino il doppiatore di frodo ecco chiarisco che per doppiatore di frodo non intendiamo che fa il doppiaggio nei boschi senza licenza ma è proprio il doppiatore italiano di frodo e lo devo vedere questa questa settimana quando vado giù a Roma e lui insegna doppiaggio e diceva proprio che lui usa delle strategie e sono curioso di conoscerle perché un doppiatore di mestiere legge quindi essere doppiatore dislessico è una cosa particolare allora voglio farvi vedere quest'altro film però vado da questo oh qua parliamo di Ben Affleck quindi c'è mica pizza e fichi allora Ben Affleck in Perlarvora ha fatto una delle cose che ho amato di più in assoluto da dislessico lui è dislessico si è imposto praticamente per fare questa scena in cui l'avviatore che lui interpreta fa una deve fare un test dell'oculistico insomma con la ragazza che vediamo a fianco che è questa infermiere insomma e durante questo test c'è l'amico a fianco che sempre spoiler alert alla fine gli frega la ragazza con l'amico dietro che gli detta le lettere perché lui ha difficoltà a leggere le lettere perché è dislessico ecco la cosa particolare del film è che parlano della dislessia il protagonista è dislessico ma la dislessia non la nominano mai quindi non c'è neanche la parola lento a leggere non viene nominata te la fanno intuire perché lui a un certo punto dice il nostro stato dice che chi stenta a leggere non può essere un bravo pilota ma io sono un ottimo pilota e te lo dimostro è fantastico perché purtroppo ancora oggi nel campo nella carriera militare essere dislessici è considerato un muro insormontabile quindi se tu sei dislessico non fai la carriera militare vieni stoppato a prescindere io conosco tantissimi ragazzi che hanno fatto la carriera militare che sono dislessici non l'hanno mai dichiarato e quindi lo stanno facendo di nascosto in pratica e è una è una battaglia è una battaglia pesante questa qua stanno combattendo una battaglia dentro la battaglia insomma e speriamo che con tutte le battaglie che si stanno facendo a livello legale insomma per garantire determinati diritti si arrivi anche a a sfondare quel muro lì insomma c'è una domanda sul film o meglio Laura che ci chiede ma che cosa significa questo punto anche se non hai 10-10 di vista non puoi pilotare esatto allora il punto è questo qua lui nella scena fa vedere che lui dice io riesco a colpire una lepre da chilometri di distanza cioè una vista perfetta quindi lui spiega che a livello oculistico lui non ha problemi però ha problemi nella lettura nel fatto confondere lettere che è una cosa tipica della dislessia insomma il fatto di avere una percezione delle lettere differente non crea problemi a livello di aviazione il fatto che tu confonda delle lettere cioè la dislessia di per sé non ti crea problemi per guidare un aereo gli creava problemi soltanto nel fare quel tipo di test oculistico dopo ecco logicamente la trama del film poi è intrecciata in modo particolare non di per sé non ci sono anche a livello lavorativo questa è una delle cose che ci tengo a precisare il fatto che una persona sia dislessica non crea dei limiti a livello lavorativo cioè io sono ingegnere informatico non ho nessun problema a fare l'ingegnere informatico il problema sono i test che ci sono a monte quindi ci sono dei test che sono basati sulla lettura e quindi tu vieni scartato non perché non sei in grado di fare il lavoro ma perché hai difficoltà enormi nel passare quel test che magari poi non c'entra niente quel lavoro che andrai a fare ma quel test prevede che tu abbia una velocità di lettura pari a tot e lo prevede in maniera suddola perché non c'è scritto in nessuna parte che ne so tu non puoi fare il chirurgo se non hai sei sillaba al secondo di velocità di lettura non ha neanche senso però nei test se tu non hai quella velocità lì hai grossi problemi a passare il test in medicina per esempio non so se ho risposto alla domanda ha risposto assolutamente interessantissimo volevo dirti che ti chiedo perdono per il fatto che io ti faccio deragliare rispetto al discorso che faresti no no ma le domande in realtà sono interessantissime sono interessanti sì davvero io ti ringrazio per il fatto che mi stai facendo da lettore è il mio strumento compensativo umano in questo momento ti sto sfruttando in maniera indegna lo faccio volentieri non sono uno strumento che viene utilizzato ma lo faccio in automatico un po' come il sole che ci scalda non è un suo impegno non dobbiamo ringraziarlo ok basta dire un po' che te l'hai ripreparato vai questo è Daniele Ambra doppiatore quello che ci ha detto appunto di Davide Perino giusto? sì che eh sì l'aveva scritto anche qui comunque che ci spiega che Davide Perino ha un talento nel memorizzare la scena ha la memoria fotografica così quando va a doppiare si concentra solo sul foglio esatto quindi significa per quelli che non hanno capito che lui deve solo leggere il testo perché riesce a ricordare quello che succede sullo schermo quindi guarda solamente il foglio e quello gli basta per avere la perfetta sincronizzazione esatto ha trovato la sua strategia infatti gliel'avrei chiesto settimana ma ormai me l'avete già già spoilerato visto che stiamo parlando di vai parliamo di quest'altro film che è in air shoes nelle sue scarpe dove abbiamo Cameron Diaz allora Cameron Diaz qua è dislessica la storia è basata sul rapporto tra le sorelle quindi non è centrata sulla dislessia è una parte ma non è proprio il centro della storia questa ragazza qua quella che è la sorella un po' diciamo più scapestrata che ha trovato tanti lavori ma le ha persi tutti per motivi che non si capiscono e che poi però nel momento in cui c'è questa scena in cui lei va a provare a fare l'attrice prova la carriera di attrice lei ha il problema col gobbo che per chi non lo sapesse è dove scorrono le parole che l'attore deve leggere in quel momento lì e il gobbo scorre troppo velocemente lei non riesce a stare dietro alla velocità del gobbo quindi non riesce a leggere le battute alla velocità che è richiesta e quindi perde quella quell'opportunità di lavoro insomma si demoralizza poi ci sono varie problematiche la sorella gli fa il cazziatone in pratica gli dice hai perso questo lavoro quest'altro quest'altro ancora e rivelendo il film tutti i lavori che lei cita sono lavori in cui lei doveva effettivamente fare che ne so il calcolo del resto e quindi capiamo che è anche un problema di discalcolia in cui deve fondamentalmente sono delle mansioni dove bisogna leggere e quindi lì capisci che effettivamente può avere avuto problemi legati alla dislessia che lei non sa di essere dislessica e anche qui la parola dislessia non viene mai nominata arriva a un certo punto della storia in cui lei capisce quella che potrebbe essere la sua attività quello che lei potrebbe fare chiede aiuto a un'altra persona e dice guarda posso mettere in piedi questa attività però io non sono molto brava con con i calcoli dare il resto fare queste cose e quest'altra signora dice non preoccuparti quella parte lì la faccio io tu dedicati al resto dell'attività e anche qui non è centrato sulla dislessia il film però tratta un argomento che è importante che è quello della mansione lavorativa faccio un esempio che faccio sempre io faccio l'ingegnere informatico devo fare dei calcoli astronomici enormi lunghissimi che fanno paura solo a pensarci ma li faccio tranquillo col mio computer con la mia calcolatrice che è dentro il computer li ricontrollo tutte le volte che è necessario io sono uno di quelli che di errori ne commette di meno perché sono talmente so talmente bene quali sono i miei limiti che vado a ricontrollare proprio dove so che non sono bravissimo quindi in realtà alla fine delle finite sbaglio di meno rispetto ai miei colleghi sotto certe cose se io invece avessi fatto il cassiere quindi non faccio l'ingegnere informatico ma faccio il cassiere che uno dice è un lavoro più semplice viene considerato un lavoro più semplice in realtà il cassiere deve calcolare il resto deve calcolarlo non tranquillo col computer in una stanza silenziosa così deve calcolarlo con un nastro malefico che porta le cose con la signora davanti con il bambino che piange con quello dietro che c'è dimenticato la macchina in doppia fila e sta spingendo la mamma col bambino che piange poi c'è quello dietro che ha l'impermeabile sospetto ok e nel frattempo poi c'è quello peggiore che è il signore che arriva lì e dice guardi le do i 20 centesimi che così l'agevolo nel calcolo lì vedi il cassiere che toglie la sicura al laser e lo fulmina ed io sono dalla parte del cassiere lo abbraccio e dico guarda fratello ti capisco anche io farei così perché fare quei calcoli sono tanti piccoli calcoli uno di seguito all'altro io non ho difficoltà a fare un calcolo enorme astronomico ma doverne fare tanti uno di seguito all'altro con la fretta con la pressione col tempo che è risicato in quello io ho difficoltà penso anche penso anche tu riguarda questo enormemente io già solo ovviamente io non ho mai fatto il cassiere in vita mia anche perché mi sparerei ma a parte questo piccolo dettaglio quando mi capita di andare da una cassiera e dare dei soldi spesso mi dicono cose del tipo guarda io ti do i 20 centesimi così tu mi mandi questo così poi è cioè è completamente arbo è incomprensibile per me e ricordo che ho avuto un po' di difficoltà con un mio coinquilino perché lui continuava a dire ma non ci vuole niente tu anziché dare i soldi a me dai questa percentuale di soldi a questa persona e quest'altra percentuale a questa persona però gli li dai dopo domani così era già ricevuto i soldi eh cioè se non avessi detto niente avrei capito meglio sì sì è orribile hai capito la metà di uno che non ci ha capito niente è la una cosa che mi è successa non so se è successa anche a te ma penso di sicuro è mia moglie quando doveva presentarmi i suoceri mi ha detto ci vediamo alle sette meno un quarto del pomeriggio dell'antivigilia di Natale ok io in quel momento avevo due opzioni non ci sposiamo o me la tengo così insomma e allora gli ho spiegato gli ho detto no guarda che per me l'antivigilia già non so cosa vuol dire le sette meno un quarto cioè dico ma a parte poi pomeridiano prima cioè perché non si perché non si può dire le perché non si può dire 45 cioè dobbiamo dire meno un quarto dobbiamo contare all'indietro contare in in sessantesimi e poi andare indietro di due giorni per l'antivigilia cioè questo sistema io io mi sono immaginato quello che ha inventato questo sistema qua io mi sono immaginato che lui da piccolo era lì che giocava con le costruzioni è arrivato un dislessico gli ha spaccato il castello di sabbia con cattiveria l'ha morso da piccolo non lo so ci odia cioè l'ha inventato qualcuno che ci odia non so come come spiegarlo meglio va bene sinceramente a me riesce molto più facile capire che cosa lei intendesse dire che la gente quando mi dice cosa è come dice un sette e un quarto sì mi riesce molto più facile che una persona mi dica l'antivigilia ok due giorni prima di Natale nessun problema è facile e poi mi dice appunto le sette e un quarto del pomeriggio facilissimo le sette del pomeriggio però io devo presentarlo con un fatto però d'anticipo però mi rendo conto che è patologico che ti riesca sì sì c'è un'altra situazione pazzesca che vabbè questa ve la tanto ormai abbiamo divagato ormai possiamo anche parlare di quello che vogliamo immaginati un meeting nazionale che abbiamo fatto sulla dislessia fantastico prossima volta che lo facciamo devi venire assolutamente tu e anche Davide Perino lo invitiamo sì sì adesso glielo faccio vedere questo video c'è stata questa situazione in cui immaginati tutti i dislessici d'Italia a Milano Marittima Milano Marittima in quel giorno era il luogo più dislessico d'Italia era l'epicentro della dislessia noi lì abbiamo detto primo giorno abbiamo parlato di dislessia fantastico anch'io le stesse cose a scuola ho vissuto l'orologio quelle cose così secondo giorno ah cavolo anche tu con l'inglese hai difficoltà perché l'inglese è una lingua non trasparente fantastico terzo giorno abbiamo detto il primo che parla di dislessia gli spariamo non ne potevamo più abbiamo detto adesso si va al mare abbiamo fatto cinque macchine con cinque dislessici per macchina io ero in quella davanti guidava una mia amica che si chiama Margherita lei si è messa a guidare c'era talmente tanta dislessia nella macchina che ci è esploso il navigatore quindi eravamo senza strumento compensativo ho detto adesso dobbiamo arrivare al mare ho preso la cartina cartacea vecchio stile e ho detto va bene il mare è quello blu devi andare dritta poi quando c'è la rotonda devi girare di là di là dove allora di là è allora aspetta da piccolo la destra e la sinistra me l'hanno insegnata allora la destra è la mano con cui scrivi quindi se tu chiudi gli occhi fai finta di scrivere la mano che si alza da sola è la destra quella che non è destra si chiama sinistra quindi ero lì che dicevo allora questa qua scrive questa devi girare a sinistra quando io gli ho detto ok Margherita gira a sinistra lei mi ha guardato mi fa aspetta allora questa qua è la mano e ha girato cioè sono state lì mezz'ora al semaforo con quello dietro che faceva il claxo gli ha detto Giulio sei dislessico anche tu non rompere cioè ci siamo messi d'accordo abbiamo detto siccome siamo dislessico io dislessico tu tutti quanti e anche quelli dietro parliamoci il linguaggio dislessico dove sono io è la mia dove sei tu è la tua quindi vai all'incrocio gira dalla tua e poi vai dritto dritto è rimasto dritto grazie a Dio però ci siamo organizzati così ed è fantastico perché adesso ogni volta che facciamo i raduni quando si va in macchina è dalla mia e dalla tua sempre prima di tornare in carreggiata c'è un ragazzo che sta insistendo con questa domanda perché credo sia sconvolto e terrorizzato oddio cosa fa? io per esempio quando leggo devo prima leggerlo con gli occhi e poi quando lo memorizzo lo dico ad alta voce in quel caso un tipo di dislessia? allora facciamo un attimo allora no aspetta devo elaborare la domanda cioè devo devo parla ad alta voce oddio c'ha ragione allora no la domanda è io per esempio quando leggo devo prima leggerlo con gli occhi e poi lo dico ad alta voce allora no nel quel il fatto di doverselo ripetere ad alta voce può essere un modo per memorizzare non è detto che c'entri con con la dislessia quello che io faccio spesso e che ho visto che fanno in tantissimi è vi faccio questo esempio qua che così rende un po' meglio l'idea arrivo subito eh non c'è problema allora partiamo dalla dalla base base quando eravamo all'asilo stavamo da dio all'asilo non si leggeva non leggevo io non leggevi tu fantastico io ero il primo della classe poi cosa succede succede che tu arrivi in seconda elementare in seconda elementare tu superi una certa soglia che è la soglia per cui tu riesci a leggere e capire quello che stai leggendo quindi è quella soglia lì che ho segnato in rosso e normalmente un normolettore arriva a quella velocità di lettura in seconda elementare io che sono dislessico che quindi è come se fossi più basso quindi uno più basso man mano che aumenta di altezza è sempre però in proporzione un pochettino più basso degli altri la stessa cosa vale per la lettura quindi la mia curva è quella lì rossa in basso io sono arrivato a superare quella soglia in cui riuscivo a fare lettura e comprensione in seconda media quindi dalla seconda elementare alla seconda media io riuscivo a leggere ad alta voce ma non riuscivo a capire quello che stavo leggendo perché tutta la mia concentrazione era nel decodificare impegnava talmente tante energie che poi non riuscivo a capire quello che stavo leggendo quindi quando leggevano gli altri capivo tutto quando leggevo io non leggevo magari bene ma non riuscivo a capire quello che stavo leggendo e quindi cos'è che succede però alle medie alle medie ti danno da fare quei compiti a casa in cui tu devi fare lettura e comprensione quindi io mi piazzavo in cucina che è questa cucina qua quella di mia madre che mi ospita per questi giorni mentre io studiavo sul tavolo c'era mia madre a fianco che lei giura che non era lì per controllarmi ma era lì per fare i piatti cioè mia madre riusciva a fare i piatti con la testa girata al contrario fantastica e io leggevo la prima volta poi lei si girava e mi diceva cos'è che hai capito niente lo leggevo la seconda volta cos'è che hai capito niente lo leggo la terza volta e mi fa adesso rileggilo più attento più attento adesso rileggilo più concentrato che è diverso l'attento è più concentrato e l'ho letto dieci volte più attento più concentrato più timido più introverso più passivo aggressivo tutti i modi alla decima volta mia mamma aveva finito di lavare tutta la casa e mi ha detto guarda per pietà te lo leggo una volta io l'ha letto lei io l'ho ascoltato l'ho letto con le orecchie come diciamo noi e ho capito tutto perché non l'ho dovuto leggere con gli occhi io ma l'ho ascoltato mia mamma mi ha guardato mi ha detto hai visto che ne bastava ancora una ok e questo è quello che succede diciamo che noi abbiamo una capacità di ascolto che è più sviluppata rispetto a quello che è invece la lettura con gli occhi insomma perché la lettura con gli occhi è quella dove abbiamo la difficoltà così però il fatto di doverla riascoltare non è una caratteristica solo dei dislessici può essere anche di chi ha difficoltà di lettura ma in particolare è anche di una caratteristica di chiunque perché ognuno di noi se usa più canali quindi uso l'ascolto uso la lettura uso la parte cinestesica cioè se uso più canali insieme riesco ad apprendere meglio ora senza fare troppo senza lisciarmi troppo il proprietario del canale però perché c'è gente che guarda i suoi video cioè perché c'è qualcuno che invece di andare a leggersi un bel libro con la storia di Walt Disney dice sai che faccio prendo vado su YouTube e ascolto qualcuno che mi racconta la storia di Walt Disney perché mi arriva da più canali mi arriva tramite il canale visivo mi arriva tramite il canale dell'ascolto magari c'è qualcosa anche da leggere qualcosa di scritto io metto insieme più canali e quindi quel video io me lo ricordo molto meglio rispetto a un a un libro che ho letto ok quindi quindi ecco tu non lo sapevi ma stai facendo un servizio un servizio culturale insomma in realtà lo so perché ho un caro amico dislessico che mi ringrazia infinitamente per questi video ogni tanto mi dice però se tu mettessi l'immagine di questa cosa quando nomini questa perché non è molto chiara non è facile da immaginare e piccole cose così e hai debuggers hai debuggers vedi ovvio ma secondo me questa cosa l'hai fatta proprio perché sei dislessico insomma allora io l'ho fatta perché ho un grande odio verso il sistema scolastico che in genere racconta queste cose nel modo più noioso possibile e quindi se ne escono con cose del tipo mettere il micro trafiletto in cui ti dicono Walt Disney era di umili origini e poi dirti eh ma vedi c'è scritto di umili origini per questo era fissato con le fattorie no non è chiaro cioè fammi capire che cazzo provava questo per le fattorie e poi magari posso intuire perché ci fosse fissato se voglio apprendere devo conoscere intimamente qualcosa non posso semplicemente avere questo passivo ascoltare la quantità di informazioni serve con volgimento emotivo e quindi io ti racconto le storie come si fa in un film perché è il metodo migliore secondo me per impararle perché diventano umane però ecco esatto sto zitto ora no no scusami non volevo zittirti no volevo dire appunto che il miglior strumento compensativo è un buon insegnante insomma se sei davanti qualcuno che che ti insegna le cose usando più canali usando più eh stimolando eh in modi differenti non solo fai una qualcosa di utile per chi è dislessico ma anche per chi non lo è perché in realtà quello che il sistema scolastico secondo me deve capire è che non c'è da fare la didattica per i dislessici nella scatola della didattica per i dislessici fatta dall'insegnante che è quello che è bravo perché si occupa dei dislessici e tutti gli altri possono andare a occuparsi di tutti gli altri eh la didattica fatta per i dislessici in realtà è migliore anche per gli altri cioè io non penso che tu fai video solo per i dislessici sarebbe limitante come cosa è una cosa che interessa anche agli altri perché è un modo di di imparare le cose in maniera più naturale più fluida più più funzionale e c'è un po' questo concetto forse l'ho messo adesso scusami faccio andare le slide un po' in maniera neurotica ma c'è questo concetto sbagliato che è questo qua lo sforzo cioè nel sistema scolastico il concetto è che se tu ti sforzi di più impari di più che la gente deve imparare che deve sforzarsi cioè se io posso imparare una cosa con il minimo dello sforzo allora non la sto imparando bene quindi se io devo andare a studiarmi un libro su pirandello oppure posso andare a teatro a vedere il così è se vi pare è meglio che mi leggo il libro piuttosto che andare al teatro ma io cavolo sono andato al teatro e mi è piaciuto ho provato anche piacere nell'imparare quelle cose su pirandello perché devo trovare il modo che mi fa non mi viene il termine edulcorato giusto comunque perché devo fare una cosa che non mi piace questo è quello che io queste le persone che pensano che lo sforzo sia la cosa da fare me l'immagino da piccoli mentre prendevano a martellate il cubo fatto quadrato per farlo entrare nel buco tondo ok perché lo sforzo è il metodo giusto no? perché lo sforzo devi usare lo sforzo è così è una balle spaziali ti adoro sì è così io sono cresciuto a balle spaziali e vabbè l'età così era un po' brutta comunque no un'altra cosa questa invece è una citazione a mia moglie sempre che salutiamo che è stata citatissima mia moglie mi ha spiegato mi ha detto tu per far capire lo sforzo devi far vedere questa immagine qua la scarpa col tacco il sistema scolastico funziona in questo modo voi quando andate in un negozio di scarpe ci sono le scarpe medie 38 37 39 poi ci sono anche il 41 il 35 ci sono tutte le taglie logicamente la maggioranza della popolazione in questo caso femminile è attorno al 38 poi c'è quella che porta che ha un disturbo specifico della calzatura che porta al 41 ma sono un pochettino di meno voi dovete pensare al sistema scolastico come a una commessa che proprio non gli va giù il fatto che deve andare in magazzino e prendere la scarpa 41 prendere la scarpa 35 queste cose qua ma non possono portare tutti il 38 e non rompere le scatole quindi arrivi di tu che dici ma guarda prova a sforzarti prova a infilarlo allo stesso guarda io porto il 38 e mezzo mi sforzo ce la faccio tranquillamente a mettere il 38 perché tu non puoi sforzarti perché io porto il 41 cioè mi c'entra l'alluce ecco quello che non si capisce spesso è che un conto è lo sforzo di chi ha una velocità di lettura più o meno nella media ma lo sforzo di uno che già ha una velocità di lettura che è la metà per raddoppiarla è una cosa che non solo è difficilissima ma è praticamente impossibile da fare senza fare errori quindi io posso leggere alla velocità di un normolettore ma se lo faccio è come pretendere che il mio corpo vada al doppio della velocità a cui io riesco ad andare quindi mi distruggo e faccio un sacco di errori ecco non so se l'esempio rende comunque rende benissimo perché una cosa che io tengo sempre a dire sulla dislessia o in generale sulla DSA è il fatto che se noi vivessimo in natura tu non hai nessun problema cioè è perché qualche stronzo ha deciso di inventare la matematica e farla in quel modo che poi io sono discalcolico è perché qualcuno ha creato un sistema solo a base di quello che fosse più comodo per lui le scarpe non sono una cosa naturale se noi andassimo in giro scalzi nessuno avrebbe problemi a dire oh io il 41 io il 35 il problema nasce quando esistono le scarpe e quindi non siete difettosi semplicemente è stata creata una cosa che non è stata creata pensando a te e non è che ci sia qualcosa di male perché di base ha funzionato per anni la gente va in giro con le scarpe da migliaia di anni però effettivamente bisogna riconoscere che tu hai una difficoltà in più e bisogna giustamente adeguarti mettiti i sandali devi andarti a cercare un terribile 42 col tacco bianco per il matrimonio non è che tu hai il piede troppo grosso è che fanno le scarpe delle dimensioni sbagliate e dopo tutto questo devo ringraziare Absurdius che mi ha detto una cosa fantastica io sono onoratissimo da questa frase ora ti lascio continuare tranquillo sì vado continuare adesso io sto andando per campi proprio aspetta che no dai volevo raccontare allora oltre al fatto che l'esempio di prima è fantastico quindi grazie Francesca volevo parlarvi di questa cosa che è la cosa penso più importante che posso dirvi stasera è una cosa che mi è successa quando io facevo le superiori c'è questa insegnante che io cito sempre e che la volta che gli ho detto guarda sai sono andato tipo in mille passa scuole d'Italia a raccontare quanto sei brava lei è tipo svenuta questa insegnante che cosa ha fatto io avevo appena ricevuto la diagnosi di dislessia dove c'era scritto che io ho una velocità di lettura che è la metà rispetto a quella media semplicissimo e lei mi ha fatto fare la prima verifica di matematica una verifica molto semplice che era per capire il livello iniziale insomma io ho preso 5 insufficiente ho fatto la prima metà completamente giusta la seconda metà completamente in bianco perché è scaduto il tempo non ho siccome quando tu fai una verifica di matematica devi leggere la prima riga per fare la seconda la seconda per fare la terza la terza per fare la quarta è un continuo leggere se tu ci metti il doppio del tempo a leggere ci metti il doppio del tempo a fare la verifica e quindi ho preso 5 perché non avevo tempo di finirla la cosa strana è che ho preso 5 quindi la prima metà era tutta giusta la professoressa quando ha visto la prima metà ha detto cavolo questo qua si è dimenticato di girare il foglio cioè non è non è spiegabile questa cosa qua poi ha visto la diagnosi c'era scritto ci mettevo il doppio del tempo a leggere ha fatto 2 più 2 mi ha chiamato mi ha detto senti vieni con me e mi ha fatto fare la stessa verifica ma col doppio del tempo quindi ho avuto 2 ore in 2 ore ho fatto la parte che mancava e ho preso 10 ecco io la racconto sempre perché fa figo ecco in realtà non ho più preso 10 in vita mia era la prima verifica era facile è andata così però la cosa bella è stata che la professoressa ha capito tutto ce l'ha detto se una persona le cose non le sa gli puoi dare 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore in più le cose non le sa comunque se una persona col doppio del tempo prende 10 vuol dire che le cose le sa e quindi ha capito che io quel 10 me lo meritavo insomma ecco io quando racconto questa cosa la cosa peggiore che mi capita è che trovo qualcuno che mi dice ah ok quindi il riassunto è che i dislessici devono studiare il riassunto è che i dislessici devono impegnarsi se si impegnano ce la fanno no è esattamente il contrario è quello che voglio dire se un dislessico che sa tutto riguardo a quella verifica lì non gli dai se a questo ragazzo qua non gli dai gli strumenti che gli servono lui anche se le cose le sa la perfezione non potrà dimostrartelo tu continuerai a dargli 5 che è insufficiente e a forza di 5 si viene bocciati ripeti l'anno e impari di nuovo delle cose che sai già io anche con tutta scusatemi la modestia ma con tutta la figaggine che portavo con me in quel momento lì non sarei comunque riuscito a passare l'anno se non c'erano questi strumenti qua ok ti ho sconvolto scusami con questa cosa no in realtà mi sta salendo il ricordo di questa spiegazione ricordi che io sto affrontando un giallo durante questa live se forse mi avevi chiesto qualcosa su questa parte qua che è la cosa più importante che racconto in realtà perché penso che sia l'esempio che rende ancora meglio quello che è il problema perché alla fine il problema non è che siamo dislessici che ci mettiamo più tempo a leggere il problema è che i test sono fatti in modo tale che non riesci a dimostrare che le cose le sai a me è capitato anche all'università c'è stato questo esame che si chiama analisi matematica che è un esame scoglio dove abbiamo perso tantissimi compagni valorosi e io ancora ho la laurea messa vicino al comodino così quando mi sveglio urlando pensando che sto ancora facendo gli esami ho la laurea e dico ok va bene è finita questo esame c'è gente che ci ha messo anni per passarlo e tutto il resto io sono andato dal professore e ho detto guardi io sono dislessico mi servirebbe avere un pochettino di tempo in più per riuscire a terminare il compito il professore mi ha detto ah ok perfetto benissimo comunque per me è un no ah ok perché no non è che non voglio è che non posso l'esame dura tre ore già dopo tre ore la gente esce fuori che vede i teletubbies che saltellano se io ti do sei ore esci fuori che sei chimicamente morto non puoi fare sei ore di fila di analisi matematica e lui mi ha detto facciamo così io spezzo l'esame in due fai tre ore il primo giorno tre ore il secondo giorno nel frattempo vai a casa ti riposi perfetto e il giorno dopo tornavo facevo la seconda metà qual è il problema che poi quando io ho finito la prima metà e gli ho consegnato il professore e poi sono tornato il giorno dopo il professore mi ha bloccato mi ha detto scusami ma non è che tu adesso vai a casa telefona ai tuoi compagni di corso ti fai dare tutte le risposte e mi arrivi con le risposte tatuate sul braccio gli ho detto profe no noi dislessici queste cose non le facciamo noi siamo bravi non facciamo neanche bigliettini profe dovremmo farli formato a quattro per leggerli che cacchio cioè cosa gli faccio a fare lui non ci ha creduto logicamente e mi ha detto guarda per sicurezza mi ha dato un altro compito ha cambiato completamente il compito con risposte completamente diverse e è andata bene lo stesso insomma alla fine ho preso 24 mi sembra e lui mi ha detto una frase che è bellissima quando ero nella fase tinky winky insomma mi ha detto ci scusi se abbiamo dovuto trattenerla un giorno di più ma questo strumento era per noi necessario per poterla valutare correttamente cioè lui ha ribaltato completamente l'affettata e mi ha detto che gli strumenti non servivano a me ma servivano a lui per potermi valutare per capire se le cose le sapevo o non le sapevo è stato fantastico perché poi tutti gli altri professori hanno preso spunto da lui e la mia vita universitaria quindi è andata ho trovato degli appigli grazie a questa cosa perché è vero che un professore che un singolo professore all'università può bloccarti la carriera e purtroppo succede anche quello ma è vero anche che a volte fanno anche l'effetto domino positivo insomma quindi è giusto riconoscerlo ecco e basta c'era questa questo esempio dai ve lo faccio così visto che siamo entrati nella parte più personale io di solito cerco sempre di buttarla sul ridere quando parlo della mia dislessia una cosa che non riuscirò mai a dire ridendo è della mia storia di quando ero alle medie io alle medie mi sentivo come una vite dentro una scatola di chiodi cioè se tu prendi il chiodo gli dai la martellata entra dentro perfetto se tu prendi una vite gli dai la martellata non entra dentro perfetta quindi ero classificato come il chiodo difettoso e quando mi è arrivata la diagnosi è stato come se avessero tolto quell'etichetta di chiodo difettoso e hanno messo l'etichetta vite tu sei una vite non sei un chiodo difettoso sei una vite e di per sé non cambia niente perché ho detto cavolo prima mi prendevano in giro perché ero lazzarone che non volevo leggere come gli altri così adesso non sarà più così mi chiameranno dislessico mi prenderanno in giro per quello è cambiato tutto quando hanno usato il cacciavite quando quella professoressa ha detto guarda che prova a darti gli strumenti compensativi ho provato il tempo in più è cambiato tutto perché ho visto che io le cose le sapevo cioè ho dimostrato a me stesso che io le cose le sapevo e quando superi quella quando ti rendi conto che tu le cose le sai non torni più indietro cioè non non dici più a te stesso forse sono stupido forse non ci arrivo forse davvero non sono capace perché l'hai dimostrato prima che agli altri l'hai dimostrato a te stesso e quindi quello lì mi ha fondamentalmente cambiato cambiato un po' la vita ok parla tu perché mi sono questa cosa non devo farla all'inizio non preoccupare quantomeno ti chiedo con cui stai hai finito sì con questa frase sì con questa l'ho detto quando vuoi possiamo ritirare fuori le slide se è necessario intanto volevo dire che wow 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 è stato re interessantissimo tutto quello che hai detto mi ricordo che hai saltato alcune slide ma va benissimo così perché povero te povero te ti sarei ti sarei anche stufato di ripetere in continuazione queste cose no ma ti posso dire una cosa intanto sono felice del fatto che quando ho fatto questa conferenza a Bergamo tu ci fossi perché ripeto non me ne fregava niente di parlare della mia storia così mi interessava io avrei tanto voluto quando ero più piccolo che venisse qualcuno di più grande di me a dirmele queste cose qua perché quando ero piccolo essere non ne parliamo mai durante le conferenze non si dice mai ma comunque essere considerato quello lazzarone essere considerato quello che non leggi come gli altri perché non vuoi perché è colpa tua perché non ti impegni come mai gli altri ce la fanno e tu no è una cosa che ti pesa parecchio io durante le conferenze ho proprio deciso di non dirla questa parte perché non voglio che la conferenza sia un piangersi addosso non deve essere un piangersi addosso deve essere un rivendicare determinate cose che non vanno bene e potrebbero andare meglio però io tutte le volte che vado a fare una conferenza immagino di essere seduto dall'altra parte di essere un ragazzino più piccolo che scopre così la dislessia penso sia il modo migliore trovare qualcuno di più grande che c'è già passato che gli dice che si sopravvive insomma non lo so in realtà è stato importantissimo non è una leccata di culo sono sincero è stato importantissimo per me come ti avevo già detto il tuo intervento è stato diverso da quello degli altri mi ha colpito di più probabilmente perché già sapevo ma anche quando io sono stato in sono dovuto fare in ospedale a Reggio di Cala a Reggio Emilia sono dovuto scendere figli è stato un viaggio pazzesco in auto perché è stato inaspettatissimo per cercare di ricevere questa diagnosi e comunque nessuno mi aveva spiegato con precisione che cosa succedesse perché io ho scoperto di questa cosa o meglio sapevo dell'esistenza della dislessia ma il precedente intervento non aveva specificato niente sulla discalculia era stato molto vago aveva descritto cose che non mi riguardano come confondere la Q la B la D la P piccole cose che non toccavano me quindi non avevo capito e la prima volta che ne ho sentito parlare l'ho già raccontato tante volte suppongo anche tu l'abbia già visto all'interno dei video io ho scoperto di essere discalculico quando durante l'ennesimo esame di matematica dopo essere stato bocciato a causa di matematica e fisica a un certo punto durante un esame un'altra professoressa che era lì sulla parte da testimone ha detto ma scusa ma sto ragazzo non è discalculico perché stava avendo una difficoltà pazzesca con delle cose di una semplicità assurda e lei che risponde ma no è in quarta superiore fosse stato discalculico gliel'avrebbero già diagnosticata dovine che ha avuto una caterba di incompetenti va bene è purtroppo sì è stato fondamentale per me poi scoprire che cosa fosse questa cosa che avevano riconosciuto in me perché anche in ospedale l'unica cosa che mi hanno detto è stata più o meno un ma sì ma sì avrei qualche difficoltà è perché il tuo misfero destro del cervello funziona in modo diverso cosa cosa che non va al cervello non ho capito cioè la pungono in modo molto medico e il metodo medico per quanto sia preciso non tiene molto conto del oh mio dio potresti fraintendere se ti dico le cose come stanno devo spiegartele sul serio mai dare cose per scontate perché per loro dirti ah l'emisfero destro è un problema ma è un modo per dire una serie funziona in modo diverso tu invece ti chiedi cos'è sto per morire sarò paralizzato a vita mi serve la larsida a rotelle se sono di scalculico o posso continuare a camminare cioè anche a me quando l'han detto mi sono chiesto mamma quanti mesi di vita mi hanno dato esattamente fammi capire così sappi che stai ricevendo complimenti per il post su Instagram di 5 giorni fa anche Batman usa gli strumenti compensativi esatto sì sì assolutamente grandissimi vabbè comunque è vero fai conto che Batman senza aereo non vola senza Alfred non si strida neanche le camicie insomma gli strumenti li usa ed è il più figo in generale tra almeno nel mondo di sì è il più figo su quello siamo siamo abbastanza d'accordo non posso parlare non posso parlare non puoi parlare non si può esprimere no comunque vabbè dai io io sono dal lato Batman rimango sempre dal lato Batman fai conto che nel gruppo giovani quando abbiamo iniziato ad andare in giro a parlare io ho detto andiamo sempre in coppia uno più grande uno più piccolo e inizialmente adesso si chiamano senior e junior inizialmente io ero per chiamarli Batman e Robin io volevo che si chiamassero così dopo vabbè c'è stato il responsabile marketing che ha cambiato tutto però secondo me era più figo più figo ma forse protetto da coppia esatto cavolo ah ecco perché non possiamo parlarne ok va bene no cancellate tutto tagliamo quella parte no volevo dirti un'altra cosa adesso devo farlo perché perché altrimenti vengo meno a quello mi restituisci le mie slide tornami i poteri oh sì signore ritornami lì ok grazie allora io volevo parlarti di questi altri due film dopo veramente sui film ti lascio tutto a te The Blind Side oltre Sandra Bullock che è di fatto la la protagonista però c'è è una storia sul football tra l'altro è tratta da una storia vera quindi probabilmente anche per quello c'è dentro la dislessia il ragazzo di cui Sandra Bullock si occupa lei alla fine prende in affido questo ragazzo che fa amicizia col figlio che ha dei problemi perché lui fondamentalmente è una montagna una montagna di uomo anche se è abbastanza giovane e in sostanza ha problemi relazionali e ha problemi a scuola guarda caso si scopre dopo che lei si comincia a occupare di questo ragazzo che i suoi problemi a scuola sono dati dalla dislessia quindi è dislessico lui poi la storia è tutta basata sul football su queste cose qua però per poter giocare a football deve migliorare la sua media e quindi anche il fatto di scoprire della dislessia si accende la lampadina e si risolve il problema la cosa particolare che c'è secondo me nei film in generale è che c'è sempre questa lampadina che si accende e poi di colpo si risolvono tutti i problemi però non ti dicono mai come si risolvono questi problemi cioè io ho fatto vedere un cartone a mia figlia dove fanno vedere l'asinello che è dislessico che ha difficoltà a leggere correttamente le parole così ok ora che mi ha scoperto che è dislessico leggi questo libro magico che ti risolve tutti i problemi e finisce così ok che tu dici va bene avete parlato della dislessia però cavolo non è che risolviamo tutto magicamente in questo modo un altro film che risolve magicamente però questo è giustificato è Percy Jackson Percy Jackson c'è lui che è dislessico viene dichiarato questa volta è uno dei pochi in cui lo dichiarano e anche lì l'autore di Percy Jackson ti dice che l'autore di Percy Jackson ha il figlio dislessico la storia è stata pensata per il figlio in pratica e cos'è che dice la storia dice che questo ragazzo che è dislessico e con la DHD in realtà non è dislessico e con la DHD ma queste caratteristiche corrispondono al fatto che lui è un figlio di Poseidone quindi essendo figlio di Poseidone ha la lettura tarata sul greco antico e i riflessi di combattimento che sono la DHD in sostanza quindi è un modo fantasy di reinterpretare BSA e la DHD quindi diciamo che a livello cinematografico è stato fatto fondamentalmente di tutto riguardo alla alla dislessia ma la cosa che manca è sempre quel libro magico cioè alla fine ok si è parlato della dislessia ok viene nominata però alla fine che cos'è che usa una persona dislessica per affrontare le sue difficoltà quello non ne parlano forse in stelle sulla terra ne parlano leggermente ma in tutti gli altri film non si parla mai di questi famosi strumenti compensativi e vabbè questa parte non te la faccio vedere perché è così però io vorrei dirtene una cosa sugli strumenti anche questa è meglio che non la faccio vedere perché potrebbe risvegliarti i ricordi brutti già li sta facendo cioè già recuperando tutto no volevo solo farti vedere questa oddio no sto sbagliando tutto ok queste dobbiamo fare un'altra diretta per vederli tutti però in sostanza com'è che funzionano questa la voglio far vedere che è dedicata a mia nonna com'è che funzionano sti cavolo di strumenti compensativi funzionano così cioè leggere è il cibo della mente questo me lo sono studiato ma la mente come la nonna non gli ne frega niente se tu leggi con la vista con l'udito col tatto l'importante che mangi come dicevamo prima se io acquisisco informazioni su Walt Disney da un libro o dai tuoi video è la stessa cosa alla fine quello che conta è che io abbia le informazioni che io abbia mangiato quelle informazioni e purtroppo però qual è il problema di tutto questo è che noi parliamo sempre di disturbo specifico prima tu hai detto del medichese ed è per quello che mi hai sbloccato il ricordo tu vai dal medico il medico ti dice guarda tu hai un disturbo specifico dell'apprendimento che in linguaggio medico significa disturbo cioè distanza dalla media in abilità specifica dell'apprendimento quindi lettura scrittura calcolo ok quindi tu sei fondamentalmente non standard per quanto riguarda lettura scrittura calcolo se l'avessero detto così dormivi molto più tranquillo però nel linguaggio scolastico disturbo dell'apprendimento significa disturbo quindi far casino cioè tu sei incasinato apprendimento imparare cioè tu sei uno che è incasinato nell'imparare le cose apprendi in maniera disturbata così cioè ti sembra che sia un problema legato ad acquisire le informazioni invece non c'entra niente è un problema legato alla lettura al decodifica cose di questo tipo insomma e a me dà fastidio la parola apprendimento perché è un po' come dire che l'unico modo di apprendere sia quello lì cioè l'unico modo di imparare è leggi infila la faccia nel libro lo leggi e aspetti che le parole si impregnino dentro di te insomma mentre in realtà esistono tanti altri modi di imparare e sono questo grafico che ho fatto vedere qua sopra che non l'ho detto io l'ha detto un certo Dale nel 69 ok ha detto che dopo una settimana ci ricordiamo il 10% di quello che leggiamo il 20% di quello che ascoltiamo il 30% se una cosa invece l'abbiamo vista e io ho aggiunto che se il 40% se una cosa l'abbiamo fatta concretamente tipo ho imparato a fare il falegname guardando un falegname e io ho aggiunto che se io sommo le cose si sommano gli effetti quindi io ho un video che ho visto molto probabilmente tra due settimane me ne ricorderò l'80% di quel video molto di più rispetto a leggere un libro per esempio questa cosa non vale solo per i dislessici vale per tutti è una cosa che io ho sfruttato tantissimo per studiare e l'altra cosa è che noi abbiamo un disturbo specifico ma abbiamo anche un potenziale specifico è come un bancino che non è bravo a scrivere con la destra ma con la sinistra va fortissimo questo volevo dire perché noi abbiamo questo potenziale questa capacità in più che sembra di fare gli sbroffi ma è così quello di poco non lo dico dopo che si chiama pensiero divergente questa è nella lista cose che forse non sapevi sulla dislessia il pensiero divergente è la capacità di trovare più risposte alla stessa domanda quindi se io ti chiedo cosa potresti fare con una penna uno è abituato a scuola a rispondere che la risposta corretta è scrivere in realtà se tu lo chiedi a un ragazzino piccolo lui ti dice che potrebbe usarne due per fare una fionda che potrebbe ti trova mille utilizzi diversi trova mille risposte alla stessa domanda quello che succede quando vai a scuola è che ti insegnano che la risposta è una è scritta in fondo al libro e tu non devi guardarla ed è quella lì quella giusta quello che hanno i dislessici è che hanno ancora il pensiero divergente sviluppato e questa cosa a livello lavorativo è un è un vantaggio perché io quando sono sul lavoro la risposta quella ufficiale quella che conoscono tutti di solito c'è ma è brevettata e quindi se una persona è capace di trovare un'altra soluzione che non viola il brevetto è è uno utile e interessante insomma l'ultima cosa questa te la questa so che ti che li conosci questi qua non si giudica un pokemon dalla prima palestra questa è una chicca che te la regalo non so tu quale hai scelto non so se puoi dichiararlo ufficialmente già dichiarato ufficialmente mi sono già beccato un po' di insulti quale il primo charmander ah charmander allora no dai puoi farlo la gente lo considera normi è bello charmander tu quale hai scelto io ho scelto charmander ma perché i dislessi ci scelgono charmander funziona così cioè charmander nella versione non sto parlando di rosso fuoco parliamo di pokemon rosso in pokemon rosso charmander obiettivamente è quello peggiore da scegliere perché tu fai la prima palestra e ti trovi l'elemento terra quindi charmander è un pokemon di fuoco contro la terra fa una fatica bestiale e lui è il capo squadra è quello che porta avanti gli altri nella prima palestra tu ti trovi bloccato praticamente e ci devi perdere un po' di tempo usarne altre allenare non mi ricordo bene chi comunque mentre se vai con squirtle praticamente passi tranquillo con bulbasaur non ne parliamo neanche quindi in realtà noi abbiamo scelto il pokemon sbagliato per la prima palestra però non si giudica un pokemon dalla prima palestra e con noi a scuola siamo come charmander nella prima palestra ci siamo beccati tutte le difficoltà quando ti hanno detto che avevi problemi con cose banali e con noi dislessici abbiamo questa cosa che noi abbiamo difficoltà a fare le cose considerate banali io ho avuto più difficoltà a impararmi a memoria il 7x8 che a imparare gli integrali tripli per esempio perché il 7x8 devi imparare tra memoria l'integrale tripli invece devi fare dei ragionamenti ecco quindi diciamo che noi siamo dei charmander alla prima palestra ma adesso quello che possiamo dire è che siamo dei charmander del rivelo 100 insomma wow cerco di farti riposare un attimino la voce facendo una follia e dicendo voglio vedere che questa in realtà so rispondere io vai ovvero abbiamo Icaru Kuroi che ci dice oltre al tempo tecnico in più è effettivamente utile l'utilizzo di strumenti elettronici tipo pc sì per tanti motivi perché non è il pc il punto ma è quello che il pc può fare per esempio se io sono dislessico e quindi confondo tra di loro l'ordine di alcune lettere o ho delle difficoltà all'interno della scrittura c'è il pc che mi corregge qualsiasi cosa io scriva se io ho un problema di disgrafia e quindi quando scrivo poi l'insegnante non riesce a leggere che cazzo ho scritto fuso i tasti i tasti risolvono il problema perché sono standard io so come si scrive quella lettera solo che se la scrivo con un tasto anche gli altri riescono a capire con il pc io posso fare cose come registrare come utilizzare l'audio posso davvero avere enormi aiuti con i colori utilizzando degli schemi che altrimenti su carta o sarebbero molto più dispersivi difficili da gestire o comunque complicati se vuoi correggimi dimmi tutto aggiungi aggiungo solo questa cosa comunque bravissimo perfetto la cosa che aggiungo è che il pc purtroppo ha uno stereotipo che c'è sul pc che probabilmente è colpa dei telefilm anni 80 non so se hai presente i telefilm dove gli informatici vengono sempre rappresentati con la camicia a quadri con gli occhialoni e che usano un pc schiacciano quattro tasti e entrano nel pentagono una cosa del genere dicono siamo dentro io non so probabilmente avevano viola al pentagono nei tasti rapidi una cosa del genere e se la convinzione che se tu dai in mano un pc a un ragazzo dislessico chissà che cosa può fare quindi viene considerato un oggetto magico viene considerato un vantaggio viene considerato un aiuto tipo quelli di chi vuole essere milionario ha telefonato a casa cose così viene considerato un bonus quindi io ti do un aiuto mi immagino sempre come se il pc cadesse con lo buttassero giù con gli aerei con con il paracadute insomma che ti arriva lì in realtà se tu prendi un pc gli togli la connessione a internet perché così non hai automaticamente cerca su google e arrivi alle soluzioni immediatamente se tu gli togli cioè se tu togli la connessione a internet un pc diventa una macchina da scrivere che quindi è utile per la disgrafia quindi tu scherzi i tasti e con la sintesi vocale che per chi non lo sapesse è un programma che vocalizza cioè legge ad alta voce quello che c'è scritto sul pc e col correttore ortografico quindi per la disortografia funziona alla perfezione ecco tutti questi strumenti compensativi come è stato detto benissimo prima dal padrone di casa sono integrati dentro quello che è un pc oggi noi abbiamo la fortuna che c'è stata una mia insegnante che mi ha detto ma metti che tu ti trovi su un'isola deserta e non hai il pc com'è che fai a calcolare la radice quadrata cioè io mi sono immaginato i personaggi dei problemi di matematica che stanno tutti quanti con questo aereo in quest'isola deserta a dover calcolare le radici quadrate e ho detto cavolo eh sì in effetti se io vado su un'isola deserta mi costruirò un pallottoliere non lo so userò le noci di cocco per fare un pallottoliere ecco questa stessa insegnante gli è successo il contrario per la per per il contrapasso non lo so per ironia della sorte si è trovata lei in una stanza deserta a non sapere usare il pc con la didattica a distanza quindi ho detto eh che cavolo è successo così una cosa fantastica che è successa cioè una delle uniche cose penso positive che sono successe con la didattica a distanza è che gli insegnanti almeno quelli con cui ho parlato io hanno capito che il computer non fa tutto lui che il computer non è un oggetto magico che un uomo con un computer non entra nel pentagono non scacciando due tasti non fa come in Kong Fury che c'è Huckerman che ti hackera nel passato e questo era per salutare Gian Andrea bene c'è qualche altra domanda? ce ne sono tantissime se voglio sia quelle della chat sia quelle che io avevo già preparato mamma mia quindi possiamo andare avanti per ore tu avvisami se ti vuoi fermare e chiedi no no tu avvisami un SOS avvisami quando la gente comincia a mandarti non sono ancora arrivati i tuoi haters non hanno ancora iniziato a spuntare i haters in realtà o meglio a parte le persone che ce l'hanno avuto con me in passato per singole cose ma sono casi molto isolati dico che su Twitch capita che qualcuno che magari è completamente esterno arrivi a dire cose prima è arrivata una persona che non so se stesse scherzando o no e ha detto prima è la teoria gender adesso è la teoria DSA ah ok sì sì ma infatti i miei amici mi chiamano gender jack però quello non penso centrico però no no la teoria partiamo da questa possiamo fare questo parallelismo già che ci siamo riguardo alle teorie allora partiamo dal presupposto che la dislessia non è un'opinione e non funziona in questo modo come ho detto anche al telefono non mi permetto di parlare del dell'omosessualità non mi permetto di parlare quello perché è giusto che ne parli chi la vive in prima persona e chi non ne sa una mazza è bene che non ne parli quindi faccio questo per dare il buon esempio di non parlarne per quanto riguarda i DSA non è una teoria non è una moda perché qualcuno ogni tanto spara che adesso va di moda essere dislessici va di moda a parte che va di moda al corsivo in questo momento non va di moda essere dislessici quindi che quello lì è un problema più serio insomma se vogliamo vedere essere dislessici è una cosa che esiste da una vita quello che è successo negli ultimi anni anche per colpa mia per merito mio è che tanti ragazzi dislessici se prima c'erano quattro ragazzi dislessici e ce n'era uno che lo scopriva adesso ce ne sono su questi quattro ragazzi ce ne sono tre che lo scoprono e ce ne sono due che magari lo dichiarano apertamente io ti ringrazio per avermi ospitato qua ti ringrazio per il fatto che anche tu hai dichiarato apertamente la tua dislessia il tuo DSA però c'è tantissime ci sono tantissime persone che ancora lo vivono come uno stigma cioè sono tantissime persone che ancora non vogliono che se ne parli ci sono tantissimi VIP anche perché noi adesso abbiamo cercato con questa petizione abbiamo fatto questa petizione per chiedere i diritti per l'università abbiamo fatto molta petizione in chat copia e incollate il link grazie mille vi invito ovviamente a firmarla questa petizione perché come dicevamo ci serve per far valere i nostri diritti abbiamo chiesto tantissime persone di esprimersi di raccontare la propria storia così ma c'è molta paura c'è la paura dello stigma c'è la paura di essere etichettati c'è la paura che viene scambiato per qualcos'altro quindi ok quella persona lì dislessica allora è inutile insegnargli le cose o cose di questo tipo un'altra cosa che succede purtroppo a scuola è gli do gli strumenti compensativi però gli abbasso il vuoto perché ha usato gli strumenti compensativi ecco quello che io vorrei che fosse chiaro a tutti quanti è che gli strumenti compensativi sono come gli occhiali io non ho mai visto nessuno lamentarsi perché lui ha gli occhiali o no non ho mai visto nessuno fare una cosa di questo tipo e c'è stata una maestra che adesso vediamo se lo trovo scusa perché nessuno si è mai lamentato perché se io in classe ho uno che ci vede benissimo uno miope e uno che è un po' ceccato insomma cos'è che si fa se io mi metto in testa di dare a tutti quanti gli occhiali per esempio qua gli occhiali li ho messi da cinque decimi da dieci cinque decimi come cosa mi trovo che quello che non ci vedeva ci vede quello che faceva un po' fatica sbarbella un pochettino il terzo vede le madonne ok e quindi la giustizia non è dare a tutti la stessa cosa ma dare ad ognuno ciò che è lui necessario questo sarebbe il principio degli strumenti compensativi quello che purtroppo succede e l'ho visto in qualche scuola è che uno dice no gli strumenti compensativi non te li do il massimo che posso fare è darti un voto in più ecco se qualcuno fa una cosa del genere fa un danno doppio perché io non ti sto chiedendo le lemosine ti sto chiedendo gli strumenti ti sto chiedendo di poter dimostrare quello che so e tu facendo così non mi stai dando questa possibilità quindi quello che noi chiediamo non sono regali ma sono la possibilità di essere valutati correttamente e e niente quando io sento dire che adesso è di moda la dislessia io sono vent'anni che sto che vado in giro a parlarne di dislessia direi che come moda se fosse una moda è una moda che dura parecchio insomma scusami mi sono fatto prendere non mi preoccupare direi aggiungerei solamente che il fatto che sentiamo solo ora parlare improvvisamente tutti quanti degli stessi argomenti come appunto il tema LGBT il tema gender o in generale il tema di disturbi specifici dell'apprendimento ADHD e tutto il resto è semplicemente legato al fatto che prima alle persone che avevano un problema si alzava un dito medio fatti i tuoi risolviteli mentre ora si cerca di dare una mano perché ora abbiamo una cosa che prima non avevamo chiamata la carta dei diritti umani dove tutti gli esseri umani hanno uguali diritti quindi abbiamo smesso di mettere i neri allo zoo in mezzo nelle gabbie tra il gheppardo e il gorilla abbiamo smesso di spedire nei campi di concentramento che ci sta antipatico abbiamo smesso di mandare in manicomio gli omosessuali a farli ammazzare perché è l'unica soluzione per poterli curare e quindi che cosa si fa? non è che può semplicemente non ammazzare le loro e ci dimentichiamo di loro bisogna preoccuparsi di queste cose è un lavoraccio è una rottura di palle per tutte le persone che non si sono mai preoccupate di questo lo capisco ma salva vite e infatti Naruto qui ci chiede ma come abbiamo fatto a superare i professori incompetenti? non l'abbiamo fatto come avete fatto a superare i professori incompetenti? cioè fondamentalmente loro sono rimasti incompetenti ci hanno dato un problema se è grave abbiamo subito un danno se non è grave siamo sopravvissuti e basta secondo me le slide grazie regia possiamo toglierle? lascio sì va bene no ti chiedo a te già che siccome Naruto vuole una risposta mi sembra giusto dargliela va bene con i professori incompetenti com'è che hai fatto tu a superarla internamente? cioè al di là del fatto che poi alla fine passi all'anno successivo quel professore non lo vedi più lo mettiamo nel dimenticatoio e e finisce lì la la cosa c'è stato qualche professore che ti ha lasciato qualche cosa di negativo che ti è rimasto? tutti fondamentalmente tutti cioè ora a parte gli altri tipi di incompetenti che ho avuto perché ho avuto altri professori incompetenti sono stato abbastanza sfortunato a scuola lasciatemelo dire però la mia insegnante di matematica all'elementare che l'unica cosa che ha fatto è stata umiliarmi nel modo più pubblico di esemplare possibile in modo da fare da monito agli altri perché io non riuscivo a imparare niente e ogni cosa che io facessi che fosse un po' diversa dagli altri era la causa del mio male quindi per esempio io amavo disegnare disegnavo su quaderni e quindi il fatto che io avessi dei disegni sul quaderno significava che è perché durante la lezione lui passa il tempo a disegnare anziché ascoltare ovviamente i disegni li facevo nel tempo libero e non avendo fogli nuovi li facevo sullo stesso quaderno su cui facevo matematica ma è perché erano i disegni non perché fossi il sostituto a quello che dovevo mettere oppure tutte le volte che io non sapevo ripetere una poesia a memoria una formula qualsiasi cosa a memoria perché io non so niente a memoria cioè io ho imparato il 112 il 118 fine cioè non so niente a memoria non so neanche le mie canzoni preferite abbiamo parlato di pokemon io non le so le sigle di pokemon ragazzi cioè ci rendiamo conto dire un sacco di cose belle all'interno dei video io ho sempre un foglio davanti con tutte le date perché altrimenti impazzisco non riesco a imparare a memoria queste cose e lei puntualmente mi umiliava mi insultava mi dava voti bassi o addirittura mi dava più bassi di quanto me li meritassi dicendo perché questo mi dovesse spronare a capire che ovviamente l'unica cosa che capivo è che io ero stupido che non ce la potevo fare e ho avuto delle crisi di nervi pazzesche crisi di pianto terrificanti ho questo piccolo momento particolare che mio padre probabilmente ricorda in cui eravamo credo a mezzanotte l'una di notte io ero stanco morto era tutto il giorno seriamente ininterrotto da quando ero arrivato a scuola a urlarmi contro perché io stavo cercando di fare delle operazioni ma non ci riuscivo erano moltiplicazioni ne avevo tipo 40 da fare e non riuscivo a farne 10 stavo impazzendo non ci capivo niente ero in difficoltà ero stressato a un certo punto mi sono messo a piangere e inizia a urlarmi contro chiedermi perché stessi piangendo non sapevo perché stavo piangendo ma era la frustrazione era un esaurimento nervoso poi l'ho scoperto studiando un pochetto di psicologia ho scoperto cosa succedeva nella mia testa però fondamentalmente io in quel momento non sapevo che succedesse a un certo punto mi hanno detto che potevo fare 5 minuti di pausa in cui potevo andare in bagno tipo a luna di notte i miei genitori degli amori di persone però in quel momento avevano torto e quel che è successo è che io non capivo più niente ero convintissimo fosse pomeriggio e mi sono messo a giocare con i Lego per i fatti miei senza rendermi conto di nulla mi ero completamente dimenticato dell'esistenza di questo compito mi ero completamente dimenticato che fosse notte mi ero completamente dimenticato di tutto quanto perché letteralmente era troppo oltre avevamo proprio rotto il confine della sanità mentale e ho avuto la professoressa di matematica delle medie che ho avuto per ben 3 anni che ti odio ancora non mi è ancora passata sei una delle poche persone nella mia vita contro cui ora ancora che me ne ha tirati dietro di tutti i colori ne ha fatte di tutti i colori e ogni errore fatto da lei è stato poi buttato su di me come quella volta che mi ha corretto solamente mezza verifica perché si è dimenticata che ci fosse l'altra pagina capisci quanto devi essere tu incompetente per fare questa cosa e poi io sono vittima io ho finito le medie con l'insufficienza in matematica anche all'esame io alle superiori per quanto alla fine abbia avuto misure compensative sono arrivate troppo tardi avere misure compensative dal maggio della mia quarta superiore è significato praticamente non averle quindi in quinta superiore io all'esame di maturità ho consegnato matematica in bianco e anche all'orale la professoressa è stata un amore io l'adoro l'ho rivista di recente l'ho voluto dire che non ce l'ho con lei lei è stata fantastica lei è stata un amore lei è quella che gettava le secchiate d'acqua sulla fiammata che ormai aveva bisogno di pompieri e all'esame di maturità lei mi ha chiesto fondamentalmente non mi ricordo quale fosse la domanda nello specifico ma era una cosa stupidissima del tipo che cos'è un numero reale facile facile poi ha visto che gli altri c'era una commissione che ci stava guardando un po' male e lei mi dice no no è che un po' timido su questa cosa inizia a parlare una bassa voce a farmi davvero delle domande matematiche ma di una semplicità pazzesca e io lei stavo pure sbagliando è l'unica cosa dove sono andato male all'orale io ho compensato la mia insufficienza il mio consegnare in bianco matematica studiando davvero tanto tutte le altre materie in modo da compensare con dei voti più alti però capite che io sono dovuto arrivare a consegnare un saggio da 10 e lode per poter compensare il fatto di consegnare in bianco matematica fai conto che io ti ho fatto questa domanda che ho visto che non ha toccato nessun nervo scoperto assolutamente così no ti ho fatto questa domanda perché quando io ho detto che facevamo questa diretta ho avuto due tipi di reazione allora la prima reazione era la gente che non capiva dove facevi la diretta perché ho detto andate sul canale di 151 c'è gente che ancora lo cerca su televideo quindi è così e ho parlato di Twitch e tu fai conto che io non ho i follower io ho le mamme quindi è un target diverso è più aggressivo sotto certi aspetti e fai conto che una cosa che mi hanno detto è mi raccomando però non tiriamo sempre fuori non parliamo sempre delle storie andate bene di successo di quelli che sono dislessici ma ce l'hanno fatta parliamo anche di quelli che sono rimasti scottati quelli che sono rimasti schiacciati da un sistema che comunque ha delle pecche spero di essere molto politically correct parliamo anche di questo quindi io ti ringrazio perché secondo me con quello che hai detto abbiamo reso un pochettino l'idea del fatto che non siamo qui a dire sì ok siamo dislessici ma con la forza l'impegno il potere dell'amicizia si risolve tutto no si risolve tutto se cambia il sistema se cambia se mi trovo davanti un insegnante che mi dà gli strumenti compensativi che mi dà gli occhiali cioè gli occhiali metaforicamente insomma mi dà quello che mi serve per dimostrare che le cose le so che non mi penalizza sotto quel punto di vista e non significa rinunciare a far imparare uno studente perché io penso che nel momento in cui non ti hanno corretto la seconda parte della verifica non hanno fatto ardere la fiamma della conoscenza dentro di te insomma ti è venuta voglia di ok la prossima volta forse non studio anche di meno insomma se l'esito è questo qua io ho passato un periodo della mia vita in cui dicevo se io studio prendo 5 se non studio prende 5 che cavolo studio a fare perché tanto poi mi strappano via il compito prima che io riesca a finirlo che cosa studio a fare questa è un po' la cosa che mi è rimasta mi hanno salvato appena in tempo e non solo gli insegnanti non solo quei pochi insegnanti che avevano capito mi ha mi ha salvato tutti gli altri intorno che comunque mi hanno detto guarda che tu sei intelligente anche se cominci a pensare di essere stupido perché se tu fossi stupido non ti faresti queste paranoie mentali quindi sei intelligente perché ti fai questi giri non mi sono dimenticato quello che volevo dirti intanto che stavo parlando succede anche a te questa cosa sì ma questo credo sia il nostro disturbo dell'attenzione sì ma penso di sì no comunque grazie Naruto che ci hai fatto vivere questo momento fantastico no volevo ah vai vai prima che ti dimentichi vai no no fai tu tu avresti una domanda che ti ripropa ma è un mi è venuto in mente un piccolo aneddoto di una mia cara amica più grande di me di un paio d'anni che mi ha raccontato questa cosa a maggio quando sono tornato in Italia giusto per qualche giorno c'è stato il giorno in cui ho incontrato lei e ricordo lei seduta in un bar che a un certo punto scoppia a piangere stavamo parlando delle nostre esperienze del passato e del fatto che ho avuto parecchi problemi con il posto in cui sono nato e lei è uscita raccontando all'inizio un aneddoto che sembrava tranquillissimo poi a un certo punto è scoppiata a piangere perché non riusciva a raccontarlo e mi si è spezzato il cuore riguardava proprio la dislessia ovvero lei è sempre stata una persona molto religiosa ed era tutta orgogliosa di andare a leggere come faceva la mamma il Vangelo in chiesa quindi quel che succede è che lei da piccola quando non sapeva leggere voleva a tutti i costi salire finalmente lì sopra perché sembra di sfidarsi su un palcoscenico per te bambino la gente che sta lì in chiesa addirittura davanti a e niente lei sale sul pulpito tutta felice che ha imparato a leggere ormai in seconda terza elementare quindi è brava ha imparato per bene legge il Vangelo e appena si allontana dal pulpito sente due madri parlare tra di loro dicendo ma questa sa leggere sapevano che lei avesse la dislessia sapevano che lei fosse tutta felice che fosse un grande passo avanti per lei leggere e quando hanno detto questa frase se ne sono completamente fregate questa ragazza ora ha quasi 30 anni e piange per una cosa che le è stata detta proprio inerente alla sua dislessia in quel momento la frase da sola magari non sembra così terribile anche se lo è soprattutto per una bambina che le sia conquistata questa cosa ma immaginate cosa ha passato lei per tutta la sua vita per poter fare in modo che quella frase le faccia così male fai conto che scusami se se interrompo riguarda questo ho finito vai anche a me è capitato di andare a leggere in chiesa fai conto che io a volte mi capita nel leggere di confondere la b con la p perché sai anche lì quello che le ha inventate ci odia sono cerchio sbarretta sbarretta cerchio cerchio sbarretta sbarretta c'è la b la b la b la q perché sono cerchio sbarretta scritto in corsivo scritto in stampato stampato e quindi io tutte le volte ti capitava di leggere magari velocemente magari che sei agitato come hai detto tu c'è tutto la la situazione e sbagliare una p con una d quando sbagli una p con una d salta sempre fuori qualcosa di oscino che poi devi spiegare a tua nonna perché hai detto quelle brutte cose su gesù ok e a me è capitato quindi è successa quella cosa lì allora a quel punto ho detto scrivetemi in corsivo troviamo un'altra soluzione insomma l'ho buttata lì così però quello che ti fa stare male e il motivo per cui ti fa stare così tanto male è che tu nel leggere quello che è forse uno stereotipo che c'è sulla dislessia a noi non è che non piace leggere io non è che non amo la lettura io da piccolo che quando ero convinto che il sistema scolastico funzionava funziona perché mi insegneranno a leggere che poi potrò leggere potrò vantarmi con gli altri che so leggere bene eccetera eccetera cioè io volevo imparare a leggere tutti quanti quando vai all'elementare vuoi imparare a leggere e andare bene a scuola tornare a casa portare i bei voti sentire gli altri che ti dicono bravo quando leggi bene cioè sono tutte cose che da piccolo sono il tuo mondo tu hai gli amici che sono i tuoi compagni di classe se tu sei quello che va male a scuola sei quello che viene classificato come quello cattivo che non fa le cose bene come vuole l'insegnante va a finire che anche ed è una cosa che mi rapporto un po' dietro come la tua amica io mi ricordo una mia compagna di classe che poi dopo anni è venuta a chiedermi una mano perché adesso credo abbia il marito che è dislessico insomma quindi mi ha chiesto poi una mano questa ragazza qua al tempo mi aveva detto tu perché continui a dire che fai fatica a leggere perché ti devi inventare questa roba perché devi continuare a menarla con questa cosa perché io alle medie continuavo a dire che io facevo fatica come mai tu non leggi uguali agli altri è perché faccio fatica cioè io ho continuato a dirlo poi mi è arrivata la diagnosi alla fine delle medie ma io prima ancora che arrivasse la diagnosi l'avevo già detto mille volte nessuno mi aveva creduto e mi ha fatto più male il fatto che i miei compagni mi consideravano come uno che la stava che se la stava inventando che faceva così e una cosa che fa male a tantissima gente è anche l'atteggiamento dei genitori e degli altri ragazzi cioè quando io ho cominciato a parlare nelle scuole a parlare con i compagni di classe perché ho detto ragazzi siete voi che fate la classe siete voi che deciderete se quel ragazzino dislessico avrà degli amici che lo sostengono oppure no mi hanno detto gli insegnanti che mi invitavano mi hanno detto dovresti fare un incontro rivolto ai genitori dei compagni di classe perché spesso sono i genitori quelli che sono più pesanti dei compagni stessi succede quello terrificante però è una cosa che di base è abbastanza banale da dire però spesso ce ne dimentichiamo noi in quanto adulti quando parliamo con un bambino abbiamo in mano un coltello e non è che è dalla parte del manico esiste solo il manico per te e solo la lama per il bambino non c'è modo di fare altrimenti tu stai sempre rischiando di distruggere la vita fate attenzione ragazzi soprattutto se dovete fare gli insegnanti a tal proposito c'era un insegnante d'inglese che ha chiesto un consiglio su come comportarsi con i dislessici un consiglio in particolare quantomeno perché credo che ce ne siano parecchie sì allora io posso dare un solo consiglio importante per quanto riguarda l'inglese racconto questo piccolo aneddoto già che siamo in orario io ho avuto questa esperienza quando sono andato la prima volta all'estero è stata particolare perché era la prima volta che sono andato all'estero sono andato in Olanda e in particolare sono andato nel carcere c'era un carcere in Olanda dove veniva fatta una conferenza sulla dislessia per i detenuti quindi io sono stato mandato prima volta all'estero in carcere in Olanda devo dire che i carceri in Olanda sono bellissimi cioè se devo farmi arrestare mi faccio arrestare là perché sono molto più vero di quello in Italia però detto questo quando sono arrivato là io ero convintissimo che il mio inglese facesse schifo che non ero capace di esprimermi che sarebbe stato un macello e quindi non appena trovo qualcuno che parla italiano mi attacco alla gamba di quello lì che parla italiano lo seguo e sono a posto così sono arrivato all'aeroporto di Schimpol e dovevo arrivare alla stazione non sapevo che la stazione era sotto l'aeroporto quindi ho cominciato a andare nel panico a chiedere a tutti dove era la stazione eccetera eccetera quindi però con l'inglese che non ero molto pratico con l'inglese quello che ho scoperto è che sapevo parlare l'inglese cioè che con l'inglese parlato io riuscivo a farmi capire che che la cosa funzionava all'estero quello che importa di più quando tu impari una lingua è partire dal parlato quindi partire dal dall'audio diciamo dal dal suono delle parole insomma in Italia noi insegniamo l'inglese partendo dalla grammatica facciamo il processo inverso che secondo me è la cosa più sbagliata per una persona dislessica cioè io ho imparato meglio l'inglese guardando le serie televisive perché guardavo How I Meet Your Mother ero arrivato alla stagione mi sembra la 4 era appena uscita la 5 vuoi lasciarlo lì che non sai se rimarrà a scapolo per tutta la vita o meno vai a vedere la 5 in lingua originale quindi ero motivato da quello e mi ero guardato la serie televisiva in lingua originale sono partito dal dal parlato secondo me questo è il modo il modo migliore purtroppo in Italia appunto invece partiamo dalla dalla grammatica perché l'italiano è fortemente legato alla grammatica ma l'inglese funziona in maniera diversa quindi non dobbiamo insegnare l'inglese come insegniamo l'italiano su questo sono d'accordissimo sono una persona che in inglese è sempre andata bene che oggi cioè parlo in inglese con chiunque perché non so lo spagnolo quindi posso dirti che hai solamente ragione il che non significa ragazzi che non dobbiate imparare la grammatica ma significa sistema scolastico non partire dalla grammatica perché poi i bambini si abituano a pensare all'inglese non solo come una cosa molto più difficile di quello che è ma dover imparare delle regole che in realtà sono fatte solo di eccezioni non funziona come l'italiano l'inglese è una cosa assurda sì io lo sto imparando da mia figlia che adesso è a due anni quindi sta imparando ora a parlare e mi sto rendendo conto di quante parole abbiamo noi che per un bambino sono assurde ma che sono irregolari che sono che gli dici no non si dice non si dice in questo modo si dice in quest'altro e quindi lei lo sta imparando perché io da papà sto continuando a dire di no non suona bene così suona bene cosa quindi la sta imparando in questo modo e logicamente la grammatica non ne sa nulla la sta imparando come si dice nella culla la lingua e l'inglese non è che non serva la grammatica però trovo assurdo quando vengono fatte io andavo malissimo nelle verifiche sui paradigmi cioè ti insegnano queste tre colonne con tutti i verbi irregolari voi io per fare un esempio agli insegnanti giusto per far capire che sono poco nerd gli ho fatto imparare a memoria i nomi dei primi 151 pokemon ok ovviamente pronunciati in terzine perché devi farmi le tre evoluzioni insomma quindi devi partire Bulbasaur Ivisaur Venusaur cioè fa fatta in questo modo qua e gli ho spiegato che queste cose che sono completamente inutili cioè ricordarsi a memoria i nomi dei primi 151 pokemon spero che non di non essere ucciso dal web però non è non andare a parare quindi ti do ragionissima ok non è una cosa fondamentale sapere queste cose qua che sicuramente non mi rendono allenatore migliore però invece noi insegniamo a memoria tutti gli irregolari io gli irregolari li ho imparati perché quando sento una frase e la sento pronunciata con un verbo irregolare cioè mi verrebbe da scriverla con un verbo irregolare che non è quello giusto mi torna alla mente l'episodio di how I meet your mother dove diceva quella frase lì e non la diceva in quel modo la diceva in quell'altro esattamente come mia figlia gli viene in mente il papà che gli diceva non si dice la frase in questo modo si dice in quest'altra insomma per esempio mia figlia quando vabbè io sono un po' cattivo si guarda questa cosa e gli ho detto prendi adesso raccogli le patatine che sono cadute per terra e porgimele ok e lei mi risponde te la porgo io te la porgio io con la G faccio no si dice porgo si dice porgo sono un cattivo papà comunque in sostanza è così insomma lei la sta imparando da me e io l'ho imparata allo stesso modo dai telefilm infatti funziona quasi sempre così con le lingue perché le lingue si sono evolute proprio sulla base della fonetica piuttosto che della logica più una cosa suona bene più la gente la fa un esempio che mi è venuto in mente è che ti ho sentito prima fare un leggerissimo errore grammaticale una cazzata da niente ma lo fanno tutti e mi son chiesto proprio ora del beh effettivamente forse è per questo che lo fanno tutti ovvero il carcere al singolare maschile al plurale non è i carceri è le carceri diventa femminile non ha minimamente senso sotto nessun punto di vista perché non è i carceri anziché essere le carceri suppongo davvero per una questione di ma sai che suona meglio così sì sì è anche il motivo per cui diciamo il tavolo la sedia perché perché non perché pensiamo che il tavolo c'ha bel cazzo perché sappiamo perfettamente che tavolo non suonerebbe bene dicendo lo tavolo sì sì o la tavolo è il tavolo solo perché suona bene non perché ci sia un'altra logica dietro e è assurdo che invece cerchino di impurti una logica in tutto questo cioè come faccio io a imparare memoria tutti i verbi irregolari quando in realtà la maggior parte di questo non ha senso cioè read red red davvero? cioè sì ma non ha senso che ci si basi così tanto sull'imparare memoria a pappagallo io mi viene da dire che c'è anche una grossa differenza tra dire a memoria e dire a pappagallo perché io ho parlato con non è dislessico quindi parlo anche con gente non dislessica ogni tanto così no per ogni volta che nomino qualcuno in un video poi mi hanno chiamato mi hanno detto che sei dislessico no no cioè non funziona così questo qua è stato campione nazionale di memoria ok quindi ho parlato con lui lui mi ha spiegato le sue cioè lui dopo che mi ha sentito parlare a una conferenza mi ha detto cavolo le stesse tecniche che usi tu le uso anch'io per i campionati di memoria gli ho detto sì ma io le uso per sopravvivere tu per far le gare cioè c'è un po' di differenza però io uso le stesse tecniche di memoria che usa lui che non sono assolutamente leggi e ripeti non è impara pappagallo ci sono delle tecniche più avanzate per fare in modo che tu ti ricordi davvero le cose torniamo all'esempio dei pokemon che è quello che rende meglio io so perfettamente le prime i primi nove pokemon li conosco alla perfezione sono gli starter hanno tutta una storia so dirti anche di che tipo cioè di che tipo sono che mosse hanno qual è quella che funziona meglio so un sacco di cose ma non perché le ho imparate a memoria ma perché c'è tutta una storia dietro l'ho collegata a tutta una serie di altre cose una serie di altre non sono nozioni imparate a scatoletta da sole sono nozioni interconnesse tra loro e quindi me le ricordo io so perfettamente che Charizard è di tipo volante e fuoco insomma perché perché c'ha tutta una storia dietro io imparo le cose in questo modo pretendere che un invece impari le cose in modo nozionistico che è il cattivo principale della dislessia è il nozionismo ok è la nostra bestia nera purtroppo il nozionismo dilaga perché è molto più facile farti un test come quelli della patente in cui tu hai da rispondere a una valanga di domande semplicissime perché sono semplici ma sono tante e devi rispondere in maniera super veloce quindi la cosa importante non è che tu sappia guidare che tu conosca il codice della strada è che tu sia veloce a mettere la X sul vero o falso nozioni a raffica senza altre cose legate a quello e purtroppo è usatissimo anche nei test d'ingresso universitari c'è un sacco di nozionismo però io mi sono fatto questa domanda dico se io dovessi farmi operare da un chirurgo preferisco un chirurgo bravo o un chirurgo che legge velocemente perché il chirurgo che legge velocemente sicuramente i test li passa tutti ma quello bravo se non è così altrettanto veloce a leggere come la mettiamo parlando del titolo della live visto che dobbiamo parlare di miti da sfatare c'è un mito che mi dicono esista puoi confermare o bocciare o bocciare completamente c'è una sola no la dislessia c'è in una sola lingua no per chi parla più lingue ho letto innumerevoli volte questa cosa è vera? ovvero c'è in una sola lingua per chi parla più lingue cioè se tu sei dislessico in inglese non lo sarai in tutte le altre lingue allora partiamo da prima ho riso quando tu parlavi perché hai introdotto probabilmente dopo le 22 entri in modalità Alberto Angelo insomma hai fatto un'introduzione proprio da 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 ser inglese così e dopo un certo punto hai detto il tavolo non ha il cazzo cioè e lì è stato l'apoteosi comunque va bene io faccio sempre questa cosa sia perché questo genere di linguaggio adatto a Twitch quindi se ci sono mamme che mi guardano perdonatemi e che siamo su una piattaforma di questo tipo che attira questo tipo di pubblico e il fatto che ragazzi non dobbiamo appesantirla sta live esatto dai lo facciamo apposta no allora la dislessia c'è in una sola lingua no non non funziona così purtroppo nel senso se tu sei dislessico in italiano non sei autoimmune verso l'inglese insomma non sei immune non hai già fatto la prima dose e sei a posto con l'inglese insomma non funziona in quel modo lì però capita che delle persone cioè logicamente scusa rifaccio da capo che mi viene forse meglio la dislessia quando è che si manifesta nel momento in cui la tua velocità di lettura è sotto una determinata soglia quella soglia lì con una lingua trasparente come per esempio l'italiano è un pochettino più più alta in generale quindi la media di velocità di lettura con l'italiano è più alta quindi ci sono meno persone che sono sotto la soglia quindi siamo quel 4% che dicevo prima siamo noi se io invece devo studiare l'inglese o altre lingue che non sono trasparenti la velocità di lettura media è più bassa quindi con la lingua trasparente tutti leggiamo più lentamente quindi ci sono più persone che sono sotto la soglia faccio l'esempio ci siamo io Enrico io sono al di qua della soglia perché sono un pochettino più lento a leggere lui è un pochettino di qua quindi io in questo esempio sono dislessico lui per un pelo non lo è con l'inglese io sono dentro nella dislessia e anche lui è dentro perché con l'inglese tutti quanti leggono un pellettino più lentamente quindi può succedere questo può succedere che qualcuno che non ha problemi con l'italiano invece per quanto riguarda l'inglese abbia gli stessi problemi di una persona dislessica ed è per questo motivo che le persone che vengono definite con difficoltà di lettura quelli arancioni che dicevo prima sono quelli che sono più sfortunati perché non sono abbastanza lenti nel leggere per essere classificati come dislessici e non sono abbastanza veloci per essere normolettori sono lì in mezzo insomma sanno solo quello che non sono come Balto sono messi così quanto cittazionismo questa sera mi piace è così no ma lo faccio anche normalmente infatti solo che lo faccio con gente che di solito non lo coglie quindi sembro un pirla che racconta che fa cittazione a caso infatti apprezzo che tu ce le hai per ora le ho beccate tutte continuiamo così dai sì sì esatto no niente quindi dicevo non so se ho risposto però il concetto è quello lì non è una cosa così complicata di per sé però però capita per quanto riguarda la soprattutto l'inglese perché adesso comunque anche l'italiano ha inglobato un sacco di parole inglesi ecco tenete conto che in Inghilterra quando la gente scopre molto presto della dislessia perché lì fanno per esempio le gare di spelling e in italiano lo spelling non esiste non avrebbe senso lo spelling in italiano lì lo scopre subito perché c'era la classica gara di spelling ok ho due cose da dire la prima è commentare questa scritta semplicemente dicendo katrovan disnef poi abbiamo questo piccolo racconto te lo leggo non ti preoccupare non ti spaventare io ho fatto il concorso docenti nel 2016 per il ruolo al computer con domande aperte io alle prime armi non sapevo come sarei andata accanto a me c'era una maestra di mezza età con sicuramente più esperienza di me scriveva sulla tastiera con un dito solo cercando una lettera alla volta e battendo un tasto ogni 30 secondi tipo guardando la ricordo di aver pensato che avrebbe potuto essere forse la miglior maestra del mondo ma il concorso non avrebbe mai passato esattamente esatto sì lo strumento con cui si fa il test come dicevo prima non è imparziale così come per noi il test scritto non è imparziale ma ci mette in svantaggio di fatto allo stesso modo per questa signora è stato è stato lo strumento che gli ha segato le gambe è così c'era un altro aneddoto che se vuoi ti racconto già che siamo in vena questo è velocissimo c'è stata una insegnante universitaria a un convegno molto grosso prima del convegno siccome purtroppo i convegni sono sempre tutti molto carini quando quando si è al microfono però poi quando non si è al microfono ti dicono delle frasi del tipo guarda io non lo posso dire apertamente ma secondo me i dislessici dell'università non dovrebbero farlo una signora mi ha detto una cosa del genere e un'altra dopo che mi ha fatto tutto questo discorso sul fatto che insomma meglio evitare che questi qua vadano a fare queste cose c'è stato poi un dislessico che ha dovuto aiutarla a usare powerpoint questo è quello che è successo e un'altra cosa che è successa carinissima questa te la dico perché ci sta allora io ho questo vantaggio che quando vado a fare i convegni vengo presentato come l'ingegnere Cutrera ex vicepresidente nazionale insomma con tutti i titoli onorifici messi uno di seguito all'altro poi arrivo io con la maglietta con lo zainetto sono arrivato a un convegno dove c'era un gruppo di accoglienza che mi aspettava erano lì ad aspettare l'ingegnere Cutrera che doveva arrivare sono arrivato io con lo zainetto mi hanno invitato a levarmi dalle scatole che dovevo arrivare io ok quindi io mi sono seduto nell'angolino e mi sono aspettato sono rimasto lì ad aspettarmi per una mezz'oretta dopo ho visto che non arrivavo e mi sono preoccupato ho detto scusate ma non è che mi è successo qualcosa chiamatemi che magari mi è successo qualcosa così e niente intanto che ero lì che mi aspettavo c'era anche un'altra professoressa che mi aspettava anche lei ho detto aspettiamomi insieme e e a un certo punto lei mi ha detto sì ma guarda io è già sarà già il terzo incontro che faccio sui DSA però sì insomma dai adesso questi qua vanno anche all'università ho detto guarda signora non c'è più religione tra un po' vorranno anche votare e con questo direi firmate la petizione perché noi all'università ci dobbiamo andare assolutamente arrivando il link della petizione in chat ti prego firmatelo aspetta verrà messo qui questo racconto è aberrante spero la cosa che mi chiedo è quando è che si sono accorti che eri tu quando sono salito sul palco ma allora quando sono salito la signora che tra l'altro avevo creato un discreto rapporto c'eravamo trovate a chiacchierare insomma un po' ovviamente io mi ero medesimato nel suo pensiero per poter parlare insieme quando sono salito sul palco è sparita praticamente non lo credo si sia sotterrata nella sedia e poi scomparsa insomma non sono riuscito neanche a salutarlo se ci sta seguendo la risaluto e no ma è importante questa cosa perché io adesso non voglio far passare il messaggio che gli insegnanti sono ignoranti che non conoscono la dislessia sicuramente la maggior parte degli insegnanti della dislessia la conoscono e la conoscono bene quello che non funziona è che fa più danno un albero che cade che una foresta che cresce quindi un singolo insegnante che fa quello che prima ha raccontato Enrico che ti distrugge sotto un certo punto di vista ci vogliono altri dieci insegnanti poi per recuperare una ferita del genere quindi è importante e tanti insegnanti quando mi parlano alla fine delle conferenze mi dicono sì ma noi queste cose le sappiamo sono i nostri colleghi che invece non le sanno e io ho detto va bene allora facciamo un convegno solo per i colleghi degli insegnanti non facciamolo facciamolo solo per questi qua che non capiscono ma non basta neanche quello non basta neanche andare su YouTube ho detto agli insegnanti che erano presenti a quelli che ci stanno seguendo su questo canale che magari c'è qualche insegnante domani martedì no domani quando tornerete a scuola dopo le vacanze troverete i colleghi date una carezza ai vostri colleghi ditegli di informarsi sulla dislessia c'è qui un racconto di un ragazzo che non ha ricevuto misure compensative in università per un esame ed è infuriato perché giustamente era sicuro di prendere un 30 si è preso un 28 ok a me è uguale con un 1 al posto del 20 è capitato con un 18 però sì anche c'è una ragazza che ha fatto un video adesso l'ho visto per ecco tutti i ragazzi che sono infuriati vi chiedo per la petizione stanno chiedendo di rilanciarla sui social io la rilancerò noi la rilancieremo sicuramente però serve un pochettino l'aiuto di tutti quindi facciamola circolare il più possibile c'è una ragazza che ha raccontato una storia che può sembrare banale lei ha chiesto di avere le mappe concettuali per avere le mappe concettuali tu devi consegnarle tre settimane prima nella torre più alta e più remota dell'università e una volta che l'hai consegnata e che la professoressa col sigillo ha detto ok va bene non ci sono cose strane dentro la mappa concettuale che la prova tu finalmente puoi usare la mappa concettuale durante l'esame questa ragazza ha fatto tutto il giro burocratico e all'esame non c'era la professoressa c'era l'assistente e la professoressa non ha detto all'assistente che lei aveva le mappe concettuali l'assistente ha detto no a me non risulta che tu puoi usarle e lei si è trovata che l'esame non ha avuto le mappe non ha poi specificato se l'esame l'ha passato o non l'ha passato ma trovarsi senza le mappe quando tu hai fatto tutto un giro di questo tipo ti fa sentire inerme completamente inerme insomma quello che noi chiediamo adesso c'è già una legge che era la legge 170 che garantisce gli strumenti compensativi per le persone con DSA all'università il problema è che va rimpolpata vanno specificate meglio alcune cose vanno date delle indicazioni molto precise per garantire che gli strumenti compensativi uno ce li abbia effettivamente e che non sia c'è che questi diritti siano dei diritti non dei favori non devi sperare accendere un cielo alla madonna e cose del genere per essere sicuro di trovare il professore che ti dà effettivamente gli strumenti compensativi deve esserci un meccanismo molto più diretto devi avere delle delle garanzie insomma vorrei ricordare alla chat che stiamo parlando di DSA correggere la grammatica alla gente non è il posto giusto ragazzi ho sbagliato un po' di grammatica no 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 stavo rispondendo ad altri commenti tra i commenti c'è una domanda però qui mi sono dimenticato di levare quando ho iniziato a parlare di altro ovvero esiste una DSA di non lettura del pentagramma e delle note musicali io posso dirti che da discalculico non ce l'ho mai fatta per niente è incomprensibile per me quella schifezza allora regia vai prestami le slide oh subito sembra gigro boco devi lanciarmi i componenti lanciami le slide ce la faccio ci sono quasi visto che citavo gigro boone nel frattempo ho fatto la slide con l'amico di Aptarus che non c'entra con gigro boco allora chiedo scusa intanto adesso le trovo adesso trovo la slide quella giusta sto riempiendo d'aspettativa tutta la no ne avevo una sulla musica che però adesso non la trovo più intanto sto facendo vedere tutte quelle sulla matematica che devono risvegliare i tuoi ricordi di quando te l'ho fatta vedere la prima volta eccola allora sulla musica queste qui sono do re mi fa so la si do già solo il fatto che la prima e l'ultima si chiamano uguale ti fa capire che c'è la fregatura come cosa e sotto c'è il pentagramma sopra sotto destra sinistra già lì tu hai problemi anche con il latino per caso? mai fatto il latino perché all'artistico l'hanno levato beh perfetto no perché una cosa che mi chiedono in tanti è anche ma i discalculi hanno problemi con il latino sì perché il latino è legato molto strettamente alla matematica questo come curiosità in generale e invece per quanto riguarda la musica a parte il fatto che io partivo avvantaggiato perché io suonavo il bongo in chiesa quindi dopo aver letto la legenda avevamo i bonghi in chiesa eravamo progressisti noi eravamo avvantissimo saluto le mie suore che sono state grandissime le mie suore mi hanno salvato anche loro perché loro facevano degli incontri in cui bisognava leggere il senso dei film praticamente ti facevano vedere il film e dopo ti chiedevano secondo te nel film di Pinocchio la fata turchina che cos'è che rappresenta eccetera eccetera tu dovevi analizzarlo e io lì ho capito che io nel leggere facevo schifo ma nel leggere i film ero bravino insomma quindi mi hanno salvato anche loro e mi facevano suonare il bongo quello non lo so se solo a me o a tutti comunque avevamo io quindi quel bongo andavo benissimo poi sono arrivati a scuola a darmi il flauto che non è esattamente come il bongo io quando si partiva con il flauto io avevo lo scovolino stavo lì con lo scovolino e me lo dicevo voi andate avanti vi raggiungo intanto metto appunto il flauto e rimanevo lì così io il pentagrammo ho sempre fatto fatica a leggerlo perché è un altro linguaggio un linguaggio che oltretutto è molto legato alla posizione sopra sotto destra e sinistra e quindi per me era difficilissimo da leggere io conosco un sacco di ragazzi dislessici che fanno il conservatorio e il problema lo scoglio principale che hanno è il solfeggio quindi quella parte lì è uno scoglio enorme però abbiamo conosciuto a uno dei mega raduni quelli a cui ti ho invitato una ragazza dislessica che dipingeva le corde del violino per e colorava le righe del pentagramma quindi ha ha fatto questo 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 passaggio qua che secondo me è molto molto carino poi ci sono altre due persone che voglio citare per quanto riguarda il solfeggio c'è Mika che è un cantante famoso che al insieme ad Andrea De Logo in questi giorni ha anche eh ci ha salutato insomma a livello televisivo e che abbiamo chiesto anche a lui di rilanciare la petizione e tutto quanto lui usa un'applicazione apposta per fare il solfeggio quindi è una cosa apposta per quello e poi abbiamo Mozart che non sappiamo se è dislessico o meno perché è morto proprio mentre stava andando a fare la diagnosi quindi è successo così non non sapremo mai eh lui aveva questa cosa particolare che lui scriveva direttamente in bella quindi la musica la scriveva ma buona la prima insomma per non andare lì a rileggersela quindi secondo me un qualcosa di dislessia poteva avercelo anche lui però queste sono speculazioni mie insomma quello è così beh ecco per la musica è tutto quello che posso dirvi io vi dico soltanto che non appena ho finito le medie il flauto è sparito e ogni tanto suona ancora il bombo in chiesa la ragazza in questione tiene a farci sapere che però lei non ha mai avuto problemi in matematica o simili ha mai avuto problemi solo con la musica eh sì 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 allora per dire i miei problemi legati alla lettura non sono legati alla matematica scusami ho fatto un ho fatto un mestolotto con con il latino la musica c'entra con la posizione sopra e sotto è lo stesso principio della b la b la q della posizione quindi c'entra con la dislessia c'entra con con la lettura proprio non tanto col calcolo eh andrei proprio di potenza a questo punto con la domandona delle domandone quali sono i principali miti sulla dsa allora i miti sui dsa eh voglio togliamo pure la slide intanto che così ci siamo ehm c'è un mh un mito grosso che circola su su facebook forse non è neanche un mito ehm su facebook su instagram sui vari canali di youtube e del motivo per cui abbiamo voluto fare questa cosa ehm c'è un po' l'idea che dislessico significhi senza lessico quindi una persona che parla senza eh le regole grammaticali senza che si capisca così quando uno si alza dice mh dice una frase che non ha senso e fa una pernacchia dice ah sono dislessico stamattina ecco in realtà non esiste una parola per definire le persone che parlano in maniera sgrammaticata o senza eh né capo né coda o come Luca Giurato insomma quando fa le papi così non esiste non hanno inventato una parola apposta per intendere quelli che parlano così eh forse dovrebbero inventarla però non usate la parola dislessia perché è già impegnata è già la nostra in inglese c'è gibberish che si riferisce proprio a questo ah si intende in quel modo lì eh no perché qualcuno mi ha detto sì sono quelli che fanno come e qua arrivo all'altra citazione eh eh lo sceriffo di Rottingham in Robin Hood un uomo in cazzamaglia quando lui dice eh ragazzatemi subito quel consegno oppure il re delle foreste illegali maialino uccisamente sapete in un a dei ecco quella non è dislessia quella non non c'entra assolutamente un tubo il fatto che io me lo ricordo è soltanto perché l'ho visto almeno un milione di volte come film ed è fantastico anche quello lì Mel Brooks è stato spettacolare comunque eh questo è uno dei miti che c'è in generale io vedo tantissimi post dove si dice dislessico per intendere uno che ribalta le parole parlando non esiste esiste il corsivo parlato adesso e sicuramente il gibberish come si chiama gibberish 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 lo importeranno anche in Italia di sicuro e così finalmente saremo separati in questo modo un altro mito importante da sfatare riguardo alla dislessia e quello l'ho già detto è il fatto che se tu ti sforzi di più impari di più se tu ti sforzi di leggere più velocemente leggi più velocemente non esiste voi pensate di andare al massimo della vostra velocità correndo e poi che arriva l'allenatore a dirvi adesso correte al doppio non è fattibile non è una cosa che riuscite a fare senza distruggervi e quindi non è una questione di impegno non è ti impegni di più leggi come gli altri non funziona in quel modo e il terzo mito da sfatare e questo è quello che ci tengo di più è ora sono tutti dislessici questa è una frase che ho sentito dire tantissime volte c'è un signore di Bergamo ora non perché io sono di Brescia però questo signore qua è di Bergamo è un insegnante che ormai è in pensione che mi ha detto questa frase mi ha detto ora sono tutti dislessici ai miei tempi la dislessia non c'era e stavamo tutti benissimo comunque è tutta colpa di questi stracomunitari che vengono qua rubano il lavoro e portano la dislessia comunque questa era la frase l'ultima parte era reale sì sì reale vabbè comunque questa qui era la frase non ho proseguito l'argomento con questo signore era già in pensione quindi a posto così abbiamo bypassato però il suo concetto era prima la dislessia non c'era stavano tutti quanti benissimo comunque è un po' come dire si stava meglio quando i dislessici stavano peggio sicuramente adesso il fatto che ci sia l'attenzione riguardo ai DSA il fatto che ci si faccia due domande in più è una cosa faticosa per gli insegnanti è faticoso io non sto dicendo che occuparsi fare i mille corsi sulla dislessia sia una passeggiata quello che dico è che sicuramente se uno decide di fare l'insegnante è faticoso ma sicuramente ne vale la pena perché io ho degli ottimi ricordi degli insegnanti che si sono messi e hanno avuto l'umiltà di chiedermi come funzionavo e se io faccio quello che faccio è per gli insegnanti che hanno capito cos'è la dislessia per gli insegnanti che vengono ad ascoltarmi e un po' anche per gli insegnanti che non avevano capito niente di me quando ero piccolo perché lo faccio alla faccia loro e quindi diciamo che è anche per loro quello lì hai un mito da sfatare anche tu? ci sto pensando ricordo che mi avevi citato il fatto di dire alla gente ragazzi ok che può essere una caratteristica ma non è non si può semplicemente dire i dislessici sono quelli che leggono al contrario che invertono le parole esatto ci sono tante persone che nel fare qualche battuta riguardo al sei dislessico sei quello che inverte le lettere hai le lettere che danzano le lettere che si muovono allora io quando sono sobrio le lettere stanno lì non è che io le vedo girare a te succede che ti girano intorno i numeri ti dicono le parolacce sei stato vinto non abbiamo un incubo esatto non sei mai stato vittima di queste cose da parte di sei mai stato seviziato da numeri e da equazioni insomma non è mai successa una cosa del genere e neanche a me è successo mai con le lettere non abbiamo le lettere che ci ballano intorno quello che succede e il motivo per cui vengono fatte vedere quando si parla di dislessia le lettere al contrario è per farti capire quello che prova una persona che fa fatica a leggere una cosa quindi viene messa così ci sono tante battute anche nei telefilm dove dicono si e sai non c'entra niente con ansia yes a meno che tu non sia dislessico inverti la lettera sì sono battute però secondo me purtroppo per chi non ha capito che cos'è la dislessia noi passiamo come quelli che girano le lettere una amica ha scritto un post su instagram carinissimo dove diceva io sono dislessica e per questo motivo mi girano le b mi gira così mi è venuto in mente un mito da sfatare legato alla mia esperienza con i coinquilini dove ricordo che dovessimo fare dei calcoli proprio inerenti allo stesso argomento che ti avevo citato non ricordo se l'abbiamo citato in live o no però sta di fatto che ricordo bene che è partita la discussione sul anche lui per esempio dal tonico però quando si tratta di colori si impegna per dire che io dovessi impegnarmi a fare lo stesso il calcolo anche se non ci riuscivo sì ma io fondamentalmente quando sto facendo un calcolo di quelli complicati di quelli semplici è un discorso a parte perché lì ho problemi di altro tipo ma quando una cosa è complicata mi sento come se stessi cercando di afferrare il fumo cioè io tengo e salta sempre fuori qualcosa che sto perdendo per strada io mi metto a fare un calcolo del tipo questo più questo più questo più questo ne perdo uno per strada mi dimentico dove era mi dimentico se l'ho già sommato se non l'ho ancora sommato diventa un problema un casino incredibile ci sudo ci sto male ci impiego un sacco di tempo non puoi dirmi è questione di superare questo blocco perché è vero che io possa avere un blocco è vero che io possa avere un blocco psicologico sulla matematica e anche quando in realtà potrei farcela magari mi freno prima perché ho paura mi riesce difficile magari mi può capitare di utilizzare come scusa questa cosa può succedere ma tutto questo non ha niente a che fare con quello che tu puoi presupporre che io stia facendo in quel momento se io ti dico se io ti dico che ho una difficoltà a meno che tu non sia il mio psicologo ti sconsiglio di dare per scontato che no in questo caso è perché hai un blocco in questo caso è perché davvero discalculia perché mi riesce un attimino difficile non è esattamente come problemi come non vedere i colori perché quando tu sei dal tonico e non puoi vedere i colori fondamentalmente c'è qualcosa che non vedi e un sacco di roba che confondi a livello fisico può essere misurata io posso contare i difetti del tuo occhio capire quanti dei tuoi coni non funzionano o quali dei tuoi coni non funzionano è un problema molto pratico la discalculia è una cosa molto più vaga perché i colori esistono mentre la matematica no per quanto sia un metodo che funziona molto bene è una cosa inventata dall'uomo e che tra l'altro si è anche evoluta nel corso del tempo quando io devo affrontare la matematica il mio problema è molto più vago è molto più difficile capire anche per me fino a che punto sia un blocco e fino a che punto sia una difficoltà dal mio cervello perché non si tratta di vedere o non vedere qualcosa ma di avere o meno la capacità di fare un certo ragionamento è una cosa molto vaga cioè non è che io ho un cassetto nella mia testa che non si apre e quindi le cose che stanno in quel cassetto non le ho è tutto molto più nebuloso è molto più complicato per me capire quale sia il confine quindi ragazzi capisco che può sembrare una scusa quando io tutte le volte evito di fare un calcolo ma sinceramente è così necessario che io faccia un calcolo senza la calcolatrice o che io devo fare un calcolo gigantesco con la calcolatrice non puoi semplicemente darmi una mano anziché metterti a fare lo psicologo e cercare di capire se è perché ho un blocco o altro perché a parte che la maggior parte delle volte non ha le competenze per fare questo infatti uno psicologo non verrebbe mai a romperti le palle su questa questione cioè uno psicologo non ti direbbe mai no è un blocco su questo devi farlo lo stesso piano non è così che funziona per di più io stesso non posso sapere quale sia il confine tra le vere cose se proprio ci devo provare mi ci vuole tempo mi ci vuole spazio mi ci vuole calma non qualcuno che mi dice dai fallo 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 non funziona ok esatto sì c'è un video bellissimo che hanno fatto nel nel 1989 no nel 1989 avevo un anno ok e dove c'è Richard Laboy che fa una simulazione di per far provare alle persone come funziona la dislessia eccetera eccetera e quando una persona è in difficoltà dice ok ragazzi adesso tutti insieme diciamogli che deve fare presto e che tutti stanno aspettando questo lo aiuterà tantissimo ma esattamente così ed è quello che succede 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 anche quello mi è venuto in mente che cosa mi hai detto alla conferenza te lo dirò dopo mi avevi fatto io non ho segreti vuoi dirlo anche ora eh? io non ho segreti sul serio puoi dirlo anche ora lo dico ora mi hai detto una frase del genere tu quando sei venuto a parlarmi alla conferenza avevo finito un incontro e mi hai fatto un discorso sul fatto che sul fatto che la matematica qualcuno potrebbe anche fondamentalmente non rompere le scatole su questa cosa mi ricordo una cosa del genere avevi dread quello me lo ricordo che avevi dread quello me lo ricordo comunque è questo discorso qua dopo adesso domani ci penso con calma e volevo scusami concludere una con questa con questo altro piccolo mito sui sui DSA che forse va va un attimino smussato in qualche modo ci sono tantissime persone famosissime che sono dislessiche c'è Steve Jobs c'è Bill Gates ci sono parlo del campo dell'informatica c'è Orlando Bloom c'è Van Affleck c'è anche la visione Depp che viene che tanti hanno detto che è bravissimo perché si ricorda a memoria non soltanto le sue battute ma anche quelle di tutto il copione praticamente e io ho detto sì per forza anch'io se dovesse recitare fare così perché non ho altro modo per non avrei altro modo per recitare insomma ci sono tante persone geniali tante persone di successo che sono dislessiche il mito che voglio sfatare è quello che i dislessici abbiano una marcia in più noi dislessici abbiamo le stesse identiche marce di tutti gli altri ci sono tra di noi delle persone geniali ci sono tra di noi delle persone che sono il top del top ci sono gli Einstein e il Leonardo da Vinci e ci sono anche quelli come me ci sono quelli che non sono Einstein io non lo sono sono figo lo stesso questo ci tengo a precisarlo ma non sono Einstein e molto spesso si pretende che per accettare una persona dislessica a scuola si pretende che sia un piccolo Einstein io ti accetto se sei dislessico ma geniale se tu sei dislessico base standard non mi vai tanto bene accetto solo si accettano solo dislessici geniali il problema e su questo tiro in ballo il multiverso è che non possiamo sapere se un ragazzino dislessico di otto anni diventerà un super mega genio cioè se io sono un insegnante tu mi dici sì ma io lo accetto soltanto se è un dislessico ma di quelli geniali quelli standard non mi interessano tu come fai a sapere se quello lì da grande diventerà un genio o no serve di avere la DeLorean prendi la DeLorean vai nel futuro vedi se questo qua è diventato un genio però se l'insegnante nel passato non ha dato gli strumenti compensativi quella linea temporale questo ragazzo qua non mi diventa un genio quindi nel dubbio gli strumenti compensativi vanno dati ora togliendo il discorso della linea temporale di queste cose qua che sono cose che dico solo a quest'ora non serve pretendere che i dislessici siano dei geni per poterli accettare non serve pretendere neanche che i dislessici siano dei bravi bambini per poterli accettare perché ogni tanto ho sentito qualcuno che mi diceva se gli strumenti compensativi glieli do ma lui però si deve impegnare lui deve studiare se no gli strumenti compensativi non glieli do ok per un premio esatto come se fosse una cosa così cioè è come dire a una scusa adesso cioè gli strumenti compensativi non sono dei regali sono un diritto e gli insegnanti non sono babbo natale non c'è non c'è la lista dei buoni a cui vengono dati gli strumenti compensativi e la lista dei cattivi che non gli vengono dati e quando degli insegnanti mi vengono a dire che io non gli do gli strumenti compensativi perché secondo me lui non ha voglia di studiare per capire se lui davvero non ha voglia di studiare qual è l'unico modo dargli gli strumenti compensativi se lui con gli strumenti compensativi comunque non riesce non ti dimostra che le cose non le sa saprai che le cose non le sa saprai che è dislessico e probabilmente non c'è neanche voglia di studiare ma se tu non glieli dai è come pretendere di sapere se un televisore funziona o meno tenendo la spina staccata sta diventando tardino anche per me quindi tu che fuso hai sono un'ora più indietro di rispetto a voi ma non ho ancora accenato ah ok per darti un'idea quindi da me sono di 10 le mie mamme mi fucilano allora se non ti saluto oh no no però non voglio concludere subito volevo solo avvisare in modo da preparare le persone perché ci sono delle domande preimpostate che penso che vadano assolutamente fatte sì allora la prima è un po' complicata ma dopo tutto questo discorso perché in Italia c'è tanta difficoltà nel riconoscere la neurodiversità allora in Italia c'è tanta difficoltà in generale nel con le differenze col trattare il capire che ci sono delle persone che vanno trattate con pari dignità con pari diritti con tutto il resto ma che bisogna avere il numero 38 e il numero 41 su questa cosa si fa fatica a capirla perché sembra sempre che o sei inclusivo o fai le personalizzazioni non si può fare una cosa e l'altra in realtà bisogna essere inclusivi come le porte non esistono delle porte pensate per quelli alti 1,75 e chi se ne frega di quelli alti due metri le porte sono standard e sono alte due metri 10 e ci passano tutti da quello alto 1,50 a quello alto due metri 10 quindi sono inclusive le porte le scarpe sono fatte su misura quindi c'è ci sono i vari numeri c'è il 38 e c'è il 41 bisogna prendere esempio da queste due cose mescolarle insieme bisogna riuscire a essere contemporaneamente inclusivi e però entrare nell'ottica e questo purtroppo viene fatto pochissimo che quello che è utile per un dislessico può essere utile anche per tutti gli altri molto spesso quindi non non c'è bisogno di lavorare per compartimenti stagni si differenzia da dove bisogna differenziare e si fanno le cose inclusive dove si può fare è un equilibrio complicato però si può raggiungere un esempio che mi veniva in mente è quello del cubo di rubik cioè il cubo di rubik è fatto da un equilibrio complicato è molto facile se tu fai solo una facciata e te ne freghi di tutte le altre però lì fai una didattica esclusiva che vale solo per quella di quella facciata lì e gli altri te ne freghi quella inclusiva è molto più complicata però dà più soddisfazione insomma vederlo completo ok allora ce ne sono tante da corrispondere perché c'è Icaro che mi dice che in Spagna le 10 sull'orario di cena classico infatti è proprio l'ora di cena poi ho visto qualcun altro dire non so se sentirmi tranquilla nel trovare ovvi questi concetti perché vuol dire che già li padroneggio oppure sconcertata perché a quanto pare serve ancora ripeterli pensa alla cosa positiva se tu li trovi ovvi vuol dire che non sono un po' così complicati esatto e poi c'è questo allora non capisco un insegnante non può star dietro a un dislessico e quest'ultimo dovrebbe sforzarsi per studiare quindi provo a interpretare la frase quindi il concetto è un insegnante non gli può star dietro ma è questo che si deve sforzare per studiare non so se è una non so che modo leggerla comunque il concetto è che sì la gli studenti devono studiare fa parte della parola studente se io sono uno studente quello che devo fare è studiare se sono un bravo studente studierò bene se sono un cattivo studente studierò male e verrà probabilmente bocciato perché sto facendo male il mio mestiere ora gli studenti devono studiare gli insegnanti devono insegnare questo è quello che bisogna fare facciamo ognuno il proprio mestiere e l'insegnante non deve star dietro a un dislessico come ho detto prima e il problema di fondo è che noi abbiamo creato tutto un sistema scolastico che non è che esiste da sempre non c'era mille anni fa il sistema scolastico che c'è adesso è una cosa che si è evoluta nel tempo e siccome gli studenti sono tanti si è creato il discorso dei test si è creata tutta una serie di cose e qualcuno è rimasto schiacciato da tutto questo perché si è dato per scontato che tutti gli studenti decono con la stessa velocità si è dato per scontato una serie di cose non è l'insegnante che deve stare dietro al dislessico non è così che funziona la cosa sono tutti gli insegnanti che nel momento in cui pensano la didattica tutti quanti messi insieme non il singolo devono fare una didattica che vada bene anche per le persone dislessiche faccio un esempio uno solo bruttissimo ma va fatto il dislessico è come un canarino infilato dentro a una miniera e quella miniera lì è il sistema scolastico e la scuola se il canarino muore non è un problema del canarino è un problema di tutti quelli che sono nella miniera perché significa che in quella miniera c'è qualcosa che non va quando muore il canarino i minatori di solito non stanno lì a dire ok sono fatti i suoi e la stessa cosa è per la scuola il Giacomo Costella che è il massimo esperto nazionale di dislessia la dice con altri termini dicendo che sono un indicatore biologico il concetto è lo stesso quello del canarino se un dislessico in una scuola sta bene vuol dire che quella scuola lì funziona bene vuol dire che quella scuola lì tiene conto di tante cose io so che quando vado a parlare con degli insegnanti gli dico guarda che il tuo metodo di insegnamento con me non funziona bene gli sto prendendo gli sto piantando un paletto nel cuore lo so perfettamente perché il metodo di insegnamento per un insegnante vuol dire tanto però ci sono degli insegnanti che quando io gli ho detto il tuo metodo non funziona bene con me hanno fatto una cosa fantastica si sono piegati mi hanno guardato negli occhi e mi hanno chiesto come funzionavo io penso che il miglior strumento compensativo per un insegnante è l'umiltà l'umiltà di mettersi davanti a un ragazzo e chiedervi come funziona questa la dico sempre io sono contento perché io non sono mi è chiesto prima chi sono io non sono nessuno sono una persona che si impegna da anni nell'associazione ma non sono un espertone megagalattico di dislessia e però ho degli insegnanti che hanno l'umiltà di venire lì ad ascoltare un ragazzo dislessico e secondo me quegli insegnanti lì fanno la differenza scusami se mi sono dilungato su questa domanda hai fatto benissimo anzi ho visto che questo account aveva già commentato chiedendo appunto quali fossero questi strumenti compensativi e forse credo che sia qui il problema di comprensione ovvero non è che l'insegnante cioè un dislessico non è una persona che ha bisogno di un insegnante di sostegno che debba aiutarlo per tutto il tempo è per questo che questa battaglia è diventata così assurda perché basta poco basta davvero poco non deve star dietro a un dislessico proprio perché un dislessico ha bisogno davvero di pochissime cose tempo in più in verifica la possibilità se per esempio il discalculico di utilizzare degli schemi o non dover imparare a memoria determinate cose o il fatto di poter utilizzare la calcolatrice il fatto di poter utilizzare il computer per scrivere se ha difficoltà a scrivere o di poter ascoltare qualcuno leggere un testo sono piccole cose che sono facilissime che in realtà a scuola si fanno già solo che non le si fa abbastanza basta farlo un pochettino di più per tutti e salverai anche il dislessico esatto va bene tra l'altro questo whisky dice proprio hai fatto benissimo dilungarti grazie mille e questa è una cosa abbastanza particolare perché abbiamo parlato di scuola fino ad ora allora qua ce l'ho la risposta ce l'ho allora normativa su DSA sul lavoro che cosa è successo che cosa è stato fatto di che cosa si parlerà tra dieci giorni tra dieci giorni ci sarà ci sarà un momento al palazzo da madama alla sede del del senato ci sarò anch'io e dove si parlerà della normativa riguardo alle persone con DSA nel mondo del lavoro qual è il problema riguardo al lavoro il problema è che quando tu vai a fare il test di medicina se tu sei miope usi gli occhiali quando tu fai frequenti elementari se sei miope usi gli occhiali quando tu vai a fare un concorso pubblico se sei miope usi gli occhiali se tu sul lavoro hai bisogno degli occhiali usi gli occhiali e la normativa sugli occhiali è chiara la normativa riguardo agli strumenti compensativi era pensata per essere analoga quindi io uso gli strumenti compensativi che come abbiamo detto non sono delle cose così ipergalattiche insomma e magari poter utilizzare la calcolatrice poter utilizzare la sintesi vocale poter avere un determinato tipo di font insomma sono degli strumenti e la possibilità di avere il tempo adeguato sono degli strumenti abbastanza basilari insomma sono previsti per i test di emissioni universitari sono previsti per dentro l'università adesso si sta chiedendo appunto di rafforzare la parte dell'università nella stesura originale della legge 170 era previsto che fossero presenti anche nei concorsi pubblici quindi io vado a fare un concorso pubblico anche lì è una forma di verifica e valutazione che è analoga è fatta nello stesso modo i test della patente 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 nautica così anche lì sono dei test risposta multipla dove c'è da leggere quindi vale lo stesso principio quindi c'è tutta un'estensione della legge 170 che riguarda anche il mondo adulto quindi il mondo lavorativo come mai questa questa norma non è stata presente nel 2010 quando è passata la legge 170 perché era una questione di commissioni quindi c'era la commissione scuola c'era la commissione lavoro c'era la commissione separate e quindi è stata fatta la legge quadro sulla dislessia e il DSA solo per quanto riguarda il mondo scolastico poi sono state ci sono state una serie di iniziative per fare in modo che ci fosse la legge come la 170 quindi con gli stessi strumenti con le stesse cose ma applicata anche a concorsi pubblici patente patente nautica tutte queste cioè fasi di valutazione all'interno delle aziende quindi c'è tutto un percorso prima dell'assunzione in cui tu vieni valutato è giusto che tu venga valutato con gli strumenti corretti e poi anche durante il lavoro cioè se io vado a rivolgermi al responsabile delle risorse umane e gli dico a me servirebbe di poter usare le cuffie per usare la sintesi vocale è giusto che io possa usarlo quindi quello che è stato chiesto e che è stato ottenuto è di avere un minimo di norma che riguardava anche la dislessia nel mondo del lavoro e di questo si parlerà nell'evento che ci sarà il 21 quindi il 21 di luglio ci sarà appunto questo evento dove si parlerà della normativa anche per quanto riguarda il mondo del lavoro una cosa per tutte che diciamo sempre sono stati fatti vari progetti che riguardano le aziende dove la domanda principale che veniva fatta e lì purtroppo c'è ancora un po' di stereotipo è ok va bene ma i dislessici quali lavori possono fare e quali lavori non possono fare e lì abbiamo chiarito di base che io conosco un sacco di persone dislessiche che fanno tutti i lavori possibili immaginabili compreso il doppiatore che abbiamo citato prima tutti quanti anche i lavori più impensabili ci sono persone dislessiche che li fanno perché? perché ci sono varie tipologie perché ogni dislessico è diverso da un altro quindi non si può a prescindere dire una persona dislessica a quel lavoro lì non lo potrà mai fare e quell'altro invece lo può fare non ha senso fare questo tipo di ragionamento non ha senso ognuno può fare fondamentalmente di tutto e non tutti possono fare tutto quindi se io sono portato per fare l'ingegnere faccio l'ingegnere c'è un mestiere che io personalmente magari non non sarei adatto a fare ma perché sono io non perché sono faccio parte dei dislessici insomma quindi questo stereotipo qua non ha senso che esista e gli strumenti compensativi non sono onerosi in particolare cioè permettere a una persona di usare la sintesi vocale che la mette con la sua chiavetta che se la usa non è oneroso e il fatto di mettere un lavoratore nelle condizioni migliori per poter lavorare è bruttissimo da dire ma lo dico lo stesso noi lavoratori per il datore di lavoro siamo delle risorse punto e la risorsa è fatta per essere sfruttata al meglio quindi se io ho una squadra di calcio e ho uno che è bravo in porta e uno che è bravo in attacco metto in porta quello bravo in porta metto in attacco quello bravo in attacco e quello che lo metto in porta gli do i guanti per parare lo metto con gli strumenti giusti per fare il suo mestiere esattamente come vengono dati il caschetto e altri strumenti uno che è dislessico se tu gli dai gli strumenti per lavorare meglio ti lavora meglio ed è l'unico motivo per cui dare gli strumenti a una persona dislessica per farlo lavorare al top delle sue potenzialità e questa cosa è assurdo forse ma è stata percepita è stata capita meglio dalle aziende rispetto al mondo al mondo universitario al mondo scolastico nelle aziende è stato chiaro che se quella persona ha difficoltà nella lettura io gli do degli strumenti per farlo migliorare per farlo lavorare meglio è un vantaggio per l'azienda questo si è si è capito poi c'è stato anche da parte di grossi imprenditori che hanno fatto delle campagne un po' particolari del tipo noi assumiamo solo persone dislessiche perché hanno il pensiero divergente altri grossi imprenditori dislessici che hanno raccontato di tutte le potenzialità insomma c'è stato tutto un movimento a riguardo però ecco c'è ancora tanto da fare e una delle grosse battaglie che stiamo portando avanti è proprio quella dell'università perché è vero che dopo quando finisce la scuola quando finisce l'università uno trova la sua strada e va tutto bene però invece ci sono tanti che sono rimasti schiacciati da quel percorso lì ed è un peccato è semplicemente un peccato ok ti adoro ti voglio bene anch'io in realtà hai risposto praticamente a tutte le domande che ti avrei mai posto quindi è stato fantastico in ogni caso non pensare che abbia tagliato qualcosa perché in realtà hai già detto tutto ok c'è qualcosa in particolare che vorresti aggiungere? allora prendo un minuto solo dopo davvero chiudiamo e così io voglio soltanto aggiungere che sono felicissimo di questa diretta che è stata lunghissima non mi aspettavo che sarebbe durata così tanto ma è stata veramente molto piacevole e e sono contento di vedere che ci sono tante persone come te tanti ragazzi che ho incontrato durante le durante le conferenze perché io penso che se non ci fosse stata cioè la dislessia non è una cosa che mi ha reso felice quando ero alle medie è una cosa che mi ha lasciato una ferita e tutto quanto ma contemporaneamente penso anche che se non ci fosse stata questa ferita questo dolore comune condiviso con altre persone come te così non ci sarebbe questo legame quindi tutto sommato è brutto il fatto di dover combattere insieme queste battaglie di dover ribadire ancora dopo tanto tempo dei concetti che magari sono ovvi ma è bello sapere di farlo con degli amici è bello sapere di farlo con un gruppo e quindi a te ma a tutti i ragazzi dislessici che si seguono rinnovo il mio invito uno a firmare la petizione e poi a partecipare a quelle che sono le iniziative dell'associazione ci troviamo tra di noi parliamo tra di noi ed è veramente un bel un bel momento e tu sei assolutamente invitato io non so che cosa dire sinceramente sono mi capita spesso di essere onorato ricevendo complimenti ma sono onorato tanto ok grazie a te grazie a te wow sappi che ci sono tante domande che ho tra le persone che le vogliono fare che sto evitando perché per quanto siano fantastiche apro un argomento gigantesco mamma mia e niente dobbiamo una volta apro un canale Twitch anch'io e ti invito così le finiamo la volta prossima no va fatto va fatto anzi vi avviso che lui può essere trovato tranquillamente su qualsiasi social potete trovarlo tranquillamente con il suo nome e di firmare la petizione che mi manda ancora una volta in chat condividetela salvatevela perché può fare davvero tanta differenza per tante persone quindi beh detto questo ti lascio l'ultima parola va bene niente ragazzi grazie a tutti grazie di averci ascoltato grazie della resistenza notturna e speriamo di rivederci di rivederci presto per parlare per parlare ancora magari per parlare di come tutti questi problemi quasi sono magicamente risolti no dai ci troviamo prima grazie a tutti buonanotte ciao ciao ragazzi ciao grazie a tutti